allora buongiorno buongiorno a tutti ci siete se ci siete iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti mi raccomando iscrivetevi condividete questo canale con tutti i tifosi che conoscete compresa questa live lasciate un bel mi piace anche quando la guarderete indifferita veramente devastate di like seguitemi su instagram alessandro catto 91 fatelo per sondaggi storie aggiornamenti programmazione seguitemi tutti qui e prima di iniziare ragazzi vi avviso l'ho già fatto su instagram quindi chi mi segue su instagram sa le cose in anteprima ma ho fatto il plico con i nomi per i cattomercati alle puntatine di quest'estate signori sette fogli fronte e retro in carattere dieci pieni di nomi puntatine osservate speciali quindi ragazzi ci sarà di che trifolare e di che divertire detto questo quest'oggi avevo fatto la live il pomeriggio però poi avevo finito i giga e quindi ho dovuto sospendere ogni tanto siamo in 50 ci sono 8 mi piace guardate che vado via sbaracco sbaracco tutto sbaracco tutto e me ne vado sbaracco tutto e me ne vado attenzione detto questo dicevo dicevo dov'è qua escele sulla lazio dopo dopo vi do qualche spoilerino sui cattomercati dicevo ragazzi oggi ho chiuso la live perché mi erano finiti i giga quindi ho detto diamoci appuntamento stasera che ne facciamo una bella corposa una bella devastante ma intanto che vi collegate che lasciate i vostri like vi vado un po a ricordare le cose salienti che ci eravamo detti questo pomeriggio le cose salieri allora è uscito il nome di i meri va bene di i meni per la fiorentina poi è uscito anche un'altra operazione di cui parleremo ma oggi pomeriggio ci eravamo lasciati col discorso di i meri va bene di i meni i meni va bene per la fiorentina del servet e io vi dissi ma guardate ragazzi sento scetticismo feci io sono l'unica persona fomentata al mondo ma per me sarebbe un buon acquisto che mi ricorderebbe il buon malè ovviamente non è che prendi i meri per fargli fare il titolare ma lo prendi eventualmente per aumentare il campo per prendere un giocatore che magari nelle gerarchie ti può essere utile che ti può fare un po d'alternativa ma è un giovane io lo conosco non lo seguo ovviamente nel campionato svizzero nel servet però seguendo le nazionali è un giocatore che se voi guardate l'under 21 ma anche la nazionale svizzera è uno che si sta imponendo nella nazionale svizzera che non è l'ultima nazionale arrivata è un giovane tra i più interessanti del panorama calcistico svizzero è un centrocampista di qualità ma anche di grinta e di avvenire quindi in ottica conference in ottica di una squadra che può crescere che può aver bisogno di giovani da rimpolpar la squadra ad avere alternative non è un brutto non sarebbe un brutto acquisto poi bisogna vedere se arriva se sono voci perché ad oggi diciamo le operazioni sono quelle che sono no però dovesse arrivare mi farebbe piacere quindi questa è la prima cosa seconda cosa che vi disse abbiamo fatto un po' un excursus sulle panchine tanto aspetto che vi colleghiate tutti lasciate like ripeto abbiamo fatto un excursus sulla situazione e qui mi fomento delle panchine ancora in corsa no e allora io mi sono stracciato le vesti io mi straccio le vesti se c'è qualcuno da cremona ascolto mandi questo video ai maggiorenti a braida ad arvedi a chi di dovere a cremona voi dovete prendere alvini ok alvini alvini alla cremonese ok pirlo magari fa il prezioso con il prezzemolino alvini è un top manager è il tu che il di fucecchio il thomas tu che il di fucecchio se la cremonese prende alvini dal perugia fa un'ottima operazione e non lo dico con lo snobismo di chi ti indica i giocatori o gli allenatori ma non li vorrebbe mai nella sua squadra io non sono così anzi ovviamente spero e credo resti italiano ma qualora italiano dovesse andare via dalla fiorentina e si aprisse un contest per scegliere il nuovo allenatore e ci fosse dentro alvini a me schifo non farebbe assolutamente viva alvini se la cremonese prende alvini fa una grandissima operazione se la cremonese prende alvini fa una grandissima operazione e la supporterò nella corsa salvezza perché un grande mister un grande tu che li hanno come noi quindi cremonese prendi alvini poi cosa vi dissi che sono fomentato e che attendo solo l'annuncio di ciò fio al verona perché una chiamata che mi piace è una scelta che mi piace tudor fa il prezioso altre offerte al prezzemolo tra gli incisivi anche lui è via ciao chi se ne frega io sono convinto che abbia dato molto di più al verona a tudor che tudor al verona e se tu prendi cioffi fai un'ottima operazione sarò curiosissimo di vedere il verona di cioffi pangasi o più che mai bellezza hashtag è bellissimo la stagione dell'opera la stagione del rigoletto tutti a verona a guardarsi il verona di cioffi e un'opera all'arena un aperitivo in piazza bra è in piazza navona con il bavero alto eleganza bellezza grande cioffi al verona annunciatelo che avete fatto un'ottima operazione un'ottima chiamata non vedo l'ora di vedere cioffi al verona ok lirica la stagione lirica inauguriamo la stagione lirica di flavio cioffi al verona hashtag è bellissimo e sull'udinese cosa vi dissi vi dissi sì che si leggono i nomi di semplici e di sottili però ragazzi se i nomi sono quelli che girano ma si fermi zaolo ma si vada su zaolo che abbiamo sta aprendo la stagione di caccia e ad ottobre abbiamo bisogno di certezze che cos'è zaolo all'udinese cosa mi significa uno zaolo all'udinese in che cosa si sostanzio zaolo zanetti all'udinese ma è mettersi dei degli stivaloni di gomma verde militare e in una domenica d'ottobre tra le brume padane del sassilat diciamo in quei campi nebbiosi brunosi che stanno tra la provincia di venezia e quella di udine andare una battuta di caccia o di selvaggina no andare a selvaggina nei campi che stanno tra la provincia di udine e venezia l'inno dell'udinese zanettiana non può che essere schiaccio fagiani l'ho messo anche su questo spero lo conosciate quel masterpiece fagiani quello lì quello diventa con zanetti all'udinese quello diventa l'inno dell'udinese fagiani è la nebbia ottobrina o novembrina in paesi quali mezzolada san michele al tagliamento la tisana pieno sassilat battute di caccia con vecchi cacciatori sessantenni che sbiascicano mezzo in dialetto e mezzo in italiano tra il veneziano e il friulano è una postazione con richiami da caccia alle anitre a cavallo del tagliamento è andare sulle sponde dell'emene a cercare selvaggina questo è zanetti all'udinese e ci piace e ci piace quindi abbiamo da un lato la beltà veronese questa stoccarda mediterranea no di fomenti di bellezza di stagioni liriche no con il cioffismo e dall'altro ci abbiamo la rusticità ruspante la nebbia la tagliatella con l'anitra appena cacciata lo stivale nella palta dell'emene con il richiamo per anitre dello zanettismo all'udinese e sono due situazioni che ci piacciono le si confermino si vada senza indugio ci piace ci va bene così quindi spero che mi stiano ascoltando a udine a verona e a cremona che mi ascoltino e mettano nero su bianco ste cose poi quest'oggi non ve l'ho neanche detto ho avuto un'illuminata pensate se all'udinese viene fuori un comunicato e ti scrivono a carnevale capo dello scouting udinese saluta separazione ci si separa e nominano paolo mecca capo degli osservatori dell'udinese così questo chiudo così ve la dico così hashtag riflettiamo bene sono da voi sono da voi rispondo alle vostre domande ok quindi scatenatevi mettete mi piace e ci sono ti è piaciuta gabrile mura queste idee immaginatevi paolo mecca capo degli osservatori dell'udinese caserebbe a maggior ragione la nebbia agli erticolli pioviginando sale e sotto la bora urla e spara zanetti e sì è una battuta di caccia così sapete come si fa nel nord est con anche i nonni che si portano i nipoti capito quella tradizione così è così zanetti a udine è il sassilat di caccia capito ci sta il venerdì sera migliore possibile grande il nostro amato beh ragazzi onestamente chi è che vi racconta chi è che vi racconta il fare mercato e fare calcio in questa maniera penso nessuno penso nessuno o bravo enzo russo che lei anche alessandro evangelisti che li vedo molto pronti sì lo scambio gualli gollini cua me gollini cua me ma a me viene da dire scusate a me viene da dire ma facciamolo presto che questi magari cambiano idea capito facciamo e come e come io per esempio quando mi sono laureato ho fatto la discussione di laurea e onestamente ho fatto una tesi quella quella della triennale la feci veramente bene il 110 lode era meritato tra l'altro fu una cosa molto bella tra l'altro con un rapporto tra i film western tipo di sollima e sergio leone e le rivendicazioni sociali degli anni 60 e 70 con testi in inglese la tesi della mia triennale meritava il 110 lode fu veramente una cosa di cui andai fiero quella della magistrale diciamo ero già intento magari a lavorare avevo già la testa altrove non c'avevo neanche tanto coglioni di farla e non fu il mio massimo ecco mettiamo così però feci la discussione andò anche bene e mi diedero 110 lode no e non me l'aspettavo praticamente sono uscito era l'aula io ho fatto l'università venezia ca foscari anche un'aula bellissima perché è quella che dà sul canal grande diciamo c'è tutte le finestre con la vista sul canal grande e boh sono uscito e ho aspettato che uscissero con il mio voto uscì il relatore della mia tesi e mi disse 110 lode mi sono girato verso i miei amici e ho detto porca puttana scappiamo via prima che cambino idea e sono corso giù dalle scale sono andato via ecco diciamo che l'affare quame gollini con tutto rispetto mi porta alla memoria quel tipo di scene capito perché con questo non sto dicendo che qua me uno scarpone anzi vi dico che magari all'atalanta nel 3 4 2 1 di di gasperini attenzione può fare bene non sto dicendo che qua me all'atalanta farà male anzi 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 è un'opportunità molto grande per lui è un'opportunità molto grande per lui se si fa e quindi non sto dicendo che qua me farà male certo è però che visto il qua me che abbiamo visto la fiorentina visto che lui anche tatticamente con il gioco di italiano c'entra e centrerebbe poco ma sarebbe se è uno scambio alla pari ma dove si firma ragazzi ma dove si firma ma dove si firma ecco gollini rispetto ai vicario quell'altro come si chiama prove del cranio ecco gollini mi fomenta già di più gol ecco che se pigli gollini ha un senso cambiare portiere non confermare terracciano pigliare gollini ha un senso poi anche un trapper è un geyser musicale anche quindi ci sta e quindi vi dico ragazzi se è uno scambio alla pari se è uno scambio alla pari ci può stare alla grande sarebbe una buona operazione l'unica qual è l'unica cosa che mi viene magari ad essere un po dubbioso è che uno può dirti sempre per il discorso del cambio portiere non è meglio cedere cuame a parte o inserirlo in un altro affare confermare terracciano e magari usare i soldi di cuame o lo stesso cuame per andare a fare operazioni con altre squadre tipo con l'udinese io vi spoilerò che ci avrei in testa anche questo perché cuame è un giocatore che all'udinese interessava e anche a me ci sono giocatori dell'udinese che interessano che potrebbero interessare alla fiorentina vi do questo piccolo spoiler quindi non c'è mai la perfezione volendo potresti usarlo per arrivare anche a altra gente e attenzione che l'udinese probabilmente rinuncerà ad eulofeu quindi ad un giocatore di quel tipo può anche aver bisogno quindi diciamo modi per usare cuame ce ne potrebbero essere anche di migliori sul calcio mercato e uno penso con molta modestia di dimostrarvelo io però onestamente mi viene a casa il ds mi dice c'ho sta fissa che devo cambiare portiere e sono riuscito ad arrivare a comprare gollini dando cuame all'atalanta non è che gli dico hai fatto cagare o con che cazzo di operazione sei venuto a casa schifo non mi fa onestamente ecco mettiamola così però aggiungo una postilla io tutta sta urgenzialità sul portiere non ce l'ho e non ce l'ho mai anzi ieri ne abbiamo parlato che a passione fiorentina buffona ha fatto i complimenti a terracciano per esempio per me abbiamo già un buonissimo portiere a casa e quindi aggiungo un'altra cosa si è deciso di avere sta urgenzialità sul portiere vuoi a tutti i costi cambiare portiere vabbè basta che però in un modo o nell'altro come vi ho detto sempre questo non vada a pregiudicare fare operazioni da altre parti perché per esempio prendere il portiere e poi magari a fine mercato sentire dire non abbiamo comprato un centro avanti oppure abbiamo comprato un centro avanti di tot livello oppure abbiamo comprato un centrocampista svincolato perché avevamo già speso i soldi sul portiere un po' mi girerebbero le palle ecco mettiamola così però d'impatto se devo dire scambio come i gollini non lo butto via non lo butto via non lo butto via e il nome di gollini avrebbe anche un senso nel momento in cui tu c'hai sta urgenzialità per il portiere comunque siete in 230 ci sono 74 mi piace io finché non arriviamo a 150 mi piace sto zitto ritorno a parlare quando arriviamo a 150 mi piace perché mi avete rotto i coglioni no vedi come salgono eh sto zitto 150 mi piace sono sto zitto a 150 mi piace o taccio bene ci siamo posso iniziare a parlare se no taccio poi avevamo parlato della situazione ah no c'è un buon tempo ecco del bene dicevo avevamo parlato anche di questo dissing tra fabio bergomi al monarca questa questa devastazione questo questo gossip capito questo gossip che si è venuto a creare il monarchismo il bergomismo ragazzi io vi dico solo una cosa io ho visto il video del monarca so che a lui non piace conte conte può piacere può non piacere per carità di dio anche se io credo sia oggettivo che sia se non il miglior allenatore italiano uno dei uno dei tre migliori sicuramente no poi può piacere può non piacere per carità di dio però ho sentito per esempio rimanendo nel tecnico i numeri che ha sciorinato il monarca sulla questione che poi anche lì ripeto io non sono un amante di chi fa calcio con la statistica con i dati con i numeri perché e non è l'unico è lui ce ne sono tanti che hanno sto bezzo perché diciamo è sempre sembra che tu quando citi i numeri quando citi le statistiche quando citi le quando ti riempi diciamo di numeri numerelli e cose sembra che lei dando una visione oggettiva ma non è così perché la prima cosa che uno deve sapere quando utilizza la statistica è che la statistica va interpretata ok vi faccio sempre l'esempio quello della statistica del pollo se io e te ci sediamo in tavola abbiamo due polli ok per la statistica abbiamo mangiato un pollo a testa quando magari io me ne sono mangiati due e tu neanche uno per la statistica abbiamo mangiato un pollo a testa quindi la statistica è nulla senza interpretazione e vi dico anche di più il calcio non è una materia di scienza non è una una come si può dire non è una sessione di laboratorio nella quale scindi l'atomo capito il calcio è umanità il calcio è e sensibilità il calcio è mettere le mani in pasta il calcio è molto più simile alla cucina di quanto non lo sia la matematica io mi ricorderò sempre quando feci l'alberghiero mi diedero il foglio no il plico con con le ricette che dovevamo fare quell'anno e sotto c'era una frase nella quale c'era scritto la cucina è la materia più importante o è la materia più bella della vita perché in lei si fondono tutte le altre materie no e per certi versi una cosa applicabile anche ad altro non solo alla cucina però il calcio anche così perché il calcio c'è una componente umana di sensibilità che a volte sfugge ai numeri capito e questo lo dico anche in risposta a quello che ho sentito per esempio dal monarca e cosa mi viene da dire grandi numeri gran possesso palla baricentro più alto assist migliori però mi viene in mente la scena capito di tre uomini una gamba quando loro finiscono la partita con 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 i nordafricani si siedono e dicono beh cazzo che colpo di testa che hai dato beccazzo che che azione che abbiamo fatto e poi finiscono e dicono sì tutto bello ma perché abbiamo perso 4 a 1 per me se io fossi interista ma anche oggettivamente dopo lo scudetto di quest'anno vinto dal milan se fossi interista ma anche di fronte ad un'analisi oggettiva il mio spirito sarebbe quello mi girerebbero i coglioni e come vi ho detto anche nel video delle pagelle di ieri secondo me l'inter aveva una rosa superiore al milan puoi girarla come vuoi puoi girarla come vuoi a kimmy ericsson e via dicendo ma siamo d'accordo che l'inter avesse una rosa superiore al milan se non siamo d'accordo uno può dire no per me il milan era più forte dell'inter come rosa sulla carta aveva più strumenti dell'inter per vincere lo scudetto e quelle sono opinioni ma siccome credo che la maggioranza degli utenti consideri la rosa dell'inter più forte di quella del milan allora qualcosa sarà mancato no mi avviso sì ed è un qualcosa che doveva dare il mister per esempio a livello di grinta a livello di concentrazione di mentalità conte è molto superiore in zaghi e queste non sono cose che trovi nella statistica non c'è una statistica che ti dice secondo numero x y conte c'ha più coglioni in zaghi oppure conte c'ha più carattere di zaghi oppure conte ha una a una grinta migliore di zaghi è una cosa che tu percepisci è una cosa che puoi desumere è una cosa che puoi provare a livello di sensitività no però credo sia reale e credo che sia una componente che in certe situazioni ha contato nella stagione dell'inter e non solo e non solo perché anche per esempio la cosa dello schema non la trovi nessuna statistica ma non mi sembra normale che specialmente dopo il calcio mercato che hai fatto in zaghi non abbia mai cambiato schema rispetto alla squadra che c'era prima con conte non sono cose statistiche ma sono cose che fanno riflettere poi conte non va idolatrato ma sono d'accordissimo anch'io ha poco senso fare le vedove di conte perché è una cosa che ti riproietta al passato e non al futuro sono d'accordissimo avrebbe più senso semmai pensare se uno se uno non piace in zaghi pensa magari ad un sostituto che può essere credibile fattibile anche se io comunque tutto sommato lo confermerei e non con entusiasmo ma ci sta la conferma di zaghi conte il primo anno non ha vinto niente verissimo va detto anche se comunque ereditava un inter diversa perché conte ha ereditato un inter che comunque era in ascesa sì ma era reduce da dei quarti posti anche faticati l'ultimo con uno schema diverso gli fecero un ottimo calcio mercato questo va assolutamente detto però anche conte al primo anno ripeto era un inter reduce da dei quarti posti ma non ha perso lo scudetto contro il milan con tutto il rispetto per il milan di sto anno che comunque è una rosa assolutamente rispettabile conte lo scudetto lo perse contro la contro la miglior juve della storia quella di sarro comunque era 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 una juve più forte no dell'inter quindi non è che ha perso contro piripicchio quindi io nella diatriba in zaghani e contiani sto abbastanza a metà del guado è cioè riconosco come vi ho sempre detto che sto a metà del guado io ho sempre detto dicevo riconosco che certo contismo sia un po' accecato un po' magari non più utile un po' fuori tempo massimo un po' esasperante però di dire che in zaghi è meglio di conte onestamente non me la sento anche perché vi invito a riflettere sul fatto che è finito un campionato che qualche rilevanza l'avrà dato rileva no no il fatto che hai perso uno scudetto contro una squadra più scarsa della tua secondo me sì poi purtroppo c'è anche tutta una fetta di interismo va detto che mette la testa sotto la sabbia che fa finta che non sia successo niente che va sempre tutto bene che quando parli di calcio di inter devi sempre dire che è tutto bello sanno provo chi se no ce l'hai con l'inter perché sono fatti così purtroppo molti anche va detto però siccome io sono abituato a ragionare parlare di calcio se mi dite la mia se mi chiedete la mia possiamo stare qui a sciorinare statistiche fino a domattina ma nel ciò non ciò non toglie che hai perso lo scudetto contro una squadra più scarsa della tua e questo te lo porti a casa poco da fare o sbaglio boh vengono le vostre ricordiamo che nell'anno di conte sulla panchina della juve c'era ancora un allenatore degno ci sono per carità ma al di là dell'allenatore il fatto che la juve abbia in questi tre anni abbia sempre avuto una rosa superiore alle concorrenti per me è conclamato e questo va a danno e a detrimento delle stagioni che ha fatto la juve carlao conti spezia sprint gotti per la panchina ok lo rivedremo in azione che ne pensi di javorcic al venezia allora ho parlato con il marchiol proprio poco fa ho fatto del marchiolismo e mi parlava di javorcic o di clotet al venezia sarebbero questi i nomi che girano ma not bad not bad però vi dico anche un'altra cosa ma perché non confermare soncino anche se va detto che comunque soncino in queste giornate qui ha mostrato più un gioco difensivo magari utile a squadre che cercano di salvarsi più che squadre che cercano di fare punti però è comunque un allenatore malleabile se gli dici che devi fare una squadra per cercare di arrivare ai playoff penso che si adatti anche lui è un allenatore giovane aveva fatto bene stava anche simpatico i tifosi ha ottenuto dei buoni risultati perché non confermare soncino perché dire no perché dire no perché dire no conosce la piazza può essere una delle poche sicurezze in mezzo a una squadra piena di sconosciuti di gente che magari viene da chissà dove perché dire no perché dire no soncino alle secondo me però bisogna ragionare su una cosa il milano aveva una profondità di rosa non indifferente è mio parere superiore a quella dell'inter pur avendo un 11 titolare inferiore ma ragazzi io non sono d'accordo cioè se tu vai ad analizzare le riserve del milano sono comunque inferiori a quelle dell'inter poi se c'è un allenatore che non vede vessino per tutto l'anno quello è un altro paio di maniche se sensi al posto di tenertelo a gennaio preferisci cederlo quello è un altro paio di maniche ma ragazzi l'inter in panchina c'ha gente come sensi aveva gente come sensi gente come sanchez gente come vessino gente come d'ambrosio gente come di marco e gente che giocherebbe titolare nel 90 per cento 95 delle squadre di serie a il milan se si fa male teo hernandez c'ha ballo tourè fode ballo tourè c'ha crunic che è stato bravo ad esaltarlo ma ripeto non credo che sia un giocatorissimo se si fa male giru ibraimovic è spesso fuori devi far giocare orebic oppure se cerchi un centravanti vero devi far giocare lazic c'è in gabbia cioè ragazzi non prendiamoci in giro dai non prendiamoci in giro e anche il discorso sulle coppe ma l'inter ha fatto la ma onore al merito alla champions che ha fatto all'inter doveva fare quella c'è non si ha fatto benissimo a farlo non poteva fare altrimenti di fare quella champions ed è stare ecco se si vuole rimproverare una cosa grave secondo me di conte è che per due anni di fila tu non puoi uscire i gironi di centro non puoi anche per una questione economica ok quella è una roba grave di conte assolutamente ve l'ho sempre detto in zaghi ha fatto meglio quest'anno di lui da quel punto di vista niente da dire solo applausi alla champions dell'inter sebbene il girone non fosse impossibile chiaro però è stata fatta passare la doppia sfida di liverpool come una cosa che solo l'inter aveva ragazzi ma guardate che se guardate la stagione delle squadre di serie a è pieno di squadre che sono arrivate almeno agli ottavi di champions europa o conference league la roma è arrivata fino alla fine il napoli è comunque arrivato agli ottavi di europa league il milan ha fatto fino al girone ma era un girone anche piuttosto complesso e vi faccio l'esempio regnante l'esempio reggino su tutti la lazio la lazio che è che ha veramente e sono tutti discorsi proporzionali è la lazio c'è una panchina aveva ha avuto una panchina orrida quest'anno penso che siamo tutti d'accordo oltre avere una difesa mediocre tra i titolari ci aveva anche una panchina orrida penso che siamo tutti d'accordo anche la lazio ti è arrivata agli ottavi di una competizione europea e col porto si è impegnata fino all'ultimo minuto per cercare di passare se uno me la pone sulla stanchezza a maggior ragione la lazio avrebbe dovuto snobarla ancora di più la coppa uefa e buttarla nelle amaro invece la lazio fino alla fine ci ha provato e pur avendo una panchina assente la miglior lazio della stagione l'abbiamo vista proprio da gennaio febbraio in poi e quindi perché il discorso sulla stanchezza per esempio per una lazio non è valido ma anche sulla stessa inter ve lo cablo il discorso se l'inter avesse fatto per esempio l'inter fa la partita contro il liverpool e spende un sacco di energie boh fa quella partita e nelle gare dopo non ne vince più neanche una facca tremenda e va tutto a puttane e allora lì io in primis vi dico beh effettivamente forse l'inter ha pagato lo scotto e la stanchezza della competizione ma non abbiamo assolutamente visto questo abbiamo visto un inter che ha lottato col milan fino alla fine punto su punto punto su punto il problema grande e grave guardate è come per esempio la gara contro la sampdoria della fiorentina se si vuole parlare dell'accesso all'europa lì la gara vera che tu devi mangiarti le mani i piedi e il cazzo è la gara contro il bologna perché tu avevi vinto prima e hai vinto dopo è stato quel buco nero lì della gara di bologna dove hai visto dei giocatori entrare in campo anche con un atteggiamento per me molto discutibile e non credo che con conte sarebbe finita così detta onestamente ok hai visto dei giocatori scendere in campo molli delle scelte anche a partita in corso discutibili e non parlo solo di radu tu se vincevi quella partita ok o magari anche se la pareggiavi ma anche vincendola che era assolutamente alla portata era tutto nelle tue mani perché poi il milan andava ad affrontare la lazio a roma affrontava la fiorentina affrontava il verona e l'atalanta non dicendo cazzo so che se vinco resto primo mi avvicino lo scudetto ma magari rincorrendo te e non hai le stesse energie non hai la stessa forza non hai la stessa mentalità e tu gli hai regalato il match point è lì che devi mangiarti le mani è lì che devi mangiarti la gara contro il bologna dell'inter equivale alla gara contro la sandoria della fiorentina in ottica europa league poi lascia stare che la fiorentina è un mero esempio che vi faccio noi il nostro campionato l'abbiamo fatto siamo andati anche oltre le aspettative proprio è per farvi capire capito l'importanza degli appuntamenti è lì che devi mangiarti le mani no ragazzi adesso no non chiedetemi puntatine oggi parliamo di calcio mercato vero di quello che si legge sui giornali le puntatine ve le do dopo oggi parliamo di affari veri di cui si sente nei giornali o di serie a o di sfoghi o di pagelli le puntatine vi ho solo fatto vedere il foglio ma quello lo usiamo più avanti e pericic al totem al moletto anch'io ragazzi boh per me la perdita di pericic sarebbe sarebbe pesantina devo esservi onesto sarebbe pesantina perché è un giocatore forte un giocatore importante un giocatore valido e io farei di tutto per tenerlo il zaghi è perfetto per l'inter perché il nostro obiettivo nei prossimi anni sarà arrivare tra le prime quattro è divino jonathan questa è una cosa che andrebbe chiesta un po la dirigenza no aleti gasa gollini a me gasa il capo dell'under si o ne ho parlato prima e vi dico ci sta ecco un nome come gollini ripeto mi giustifica non di tantissimo ma comunque mi giustifica il fatto di dire rinuncio a terraciano o a cantono terraciano se a cantono terraciano per vicari provedel e gente così dico ma non stai prima a tenerti terraciano se devo valutare gollini gollini ci sta gollini ci sta gollini è un buonissimo portiere mi gasa c'è anche mi sembra uno di personalità a volte fa a volte magari è un po delle delle sue pazzie e va detto va detto da sto punto di vista è più continuo terraciano è più normale però gollini ragazzi all'atalanta ha fatto delle ottime stagioni è andato al tottenham è nel giro della era barra è nel giro della nazionale quindi gollini nel caso a me va bene salatino costi ce lo vedi meglio all'intero al tottenham mi nessuno delle due squadre lo sto tenendo d'occhio per uno per i miei cattomercati per una squadra italiana ma non è nell'inter né il tottenham non alla lazio alessandro negroni ale mi collega solo adesso quindi non so se te l'hanno già chiesto mi piacerebbe sapere cosa ne pensi delle parole di maldini ma perciò diversi un po un fulmine a ciel sereno va detto è perché con gazidis con la proprietà è stato abbastanza diretto e scocciato mi pare però penso che risolvano perché voglio dire è uno sponsalizio che deve continuare perché è il principale artefice secondo me dello scudetto del milano quindi io penso che troveranno un accordo penso che si siederanno penso che ci sarà una una volontà però maldini c'è poi lo capisco per carità perché uno ha sempre l'ambizione uno magari anche tifoso vuole sempre alzare la sticella però maldini c'è la bravura di maldini e la bellezza tra virgolette dello scudetto del milano è stato proprio il fatto che tu non con grandissime risorse sebbene nel fondo elliot comunque i soldi per ripianare per per aumentare il capitale li abbia messi però diciamo per quel che riguarda il comparto tecnico la bravura e la bellezza dello scudetto del milano è stato proprio quello di dire con una rosa magari non non la più forte del campionato con delle scelte oculate non con delle con degli investimenti devastanti ma con le idee con la con la capacità dei dirigenti dello scouting delle scelte di mercato cazzo ho fatto un mezzo miracolo comunque ho fatto un'ottima cosa portato a caso uno scudetto e quindi cioè andare a lamentarsi perché le opportunità o perché le risorse perché i soldi non sono quelli delle 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 squadre capito di di super livello europeo lo capisco ci può stare è una naturale richiesta del tifoso e anche del dirigente però se c'è una cosa di cui tu devi andare fiero è proprio che non con un budget illimitato non con tantissimi soldi cazzo sei riuscito a fare una gran cosa quindi fare questa intervista qui magari dopo qualche giorno che è avvenuta sta roba qui lo capisco ci sta è anche un utile campanello d'allarme però d'altro canto dico anche ragazzi la bravura del milan in generale è stata anche quella di fare sta impresa spendendo magari meno di altre molto meno di altre e vincendo di più e quella la bellezza per me che resta del campionato del milan ed è anche lì che si vede dove uno è bravo perché a vincere con i soldi a vincere spendendo e spandendo sono capaci tutti a volte neanche neanche ce la fai perché straspendi stra investi e fai le cagate tipo pari san germain spendere spendere poco e vincere vincere con poche risorse vincere con le idee è lì che si vede la bravura è lì che si vede la bravura pare la viola si è interessata a tamese doge perché non ti piace vicario è comunque stato il portiere che ha fatto più parate in serie a ma anche lì ragazzi vedi questa per esempio simone una statistica ma non vuol dire assolutamente niente perché per esempio questa statistica qua non mi tiene conto non mi tiene conto non mi tiene conto del fatto che magari è un giocatore che può pagare lo scotto in una piazza come firenze che magari ti fa un'annata super overperformando e quella dopo si sgonfia è come per esempio lukaku lukaku uno guardava le statistiche di lukaku all'inter e cosa diceva va il celsi si mangia i palazzi a statistiche doveva essere così e invece avete visto cosa è successo ma tu non lo potevi sapere con la statistica che magari non era un giocatore adatto al modo di tuchel che è un giocatore magari che con le piccole in certe situazioni overperforma e quando va a confrontarsi con il mercato le cose cambiano non c'è nessuna statistica che te lo dice è la sensibilità e anche su vicario secondo me non sto dicendo che sia scarso io lo conosco vicario da quando era al venezia da tempo che lo seguo vicario però c'è di meglio c'è di meglio ha fatto una buonissima nata ad empoli per carità ma è abbastanza mingerlino non è uno che mi dà tutte ste sicurezze non lo vedo neanche con una grande personalità come portiere intendo per me c'è di meglio e onestamente se devo andare a spendere 10 milioni per vicario che sono tanti soldi che ti vengono chiesti adesso magari dopo un'ottima stagione quindi ci vogliono monetizzare o vado su altri nuovi oppure ti dico ascolta questi 10 milioni qua me li metto in saccoccia me li spendo su altri ruoli io la penso così golini secondo me ad oggi meglio di vicario soprattutto esperienza europea che secondo me cosa ne pensi di udogia la juve ve l'ho puntatinato io ve l'ho sbucciato io personalmente ieri sera quindi cosa 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 devo pensare una mia puntatina e se va la juve mi ci spetterebbe anche la maglietta vicario molto più forte del tanto acclamato carne secchi ma chi l'ha detto scusa dove sta scritto perché l'ha detto lorenz 17 cosa vuol dire c'è una c'è un c'è un dato c'è c'è una stella d'egitto dove c'è scritto vicario è tanto più forte di carne secchi ma io non sono io non sono assolutamente d'accordo per esempio io non sono assolutamente d'accordo meglio tenere terracciano 10 milioni per il riscatto appunto poi magari vai a spendere ripeto siamo al discorso di prima magari vai a spendere 10 milioni per vicario e poi ti vengono a dire ma soldi per andare a comprare una prima punta forte non ce n'erano molti allora tientelo di cari onestamente guardi ecco anche questo messaggio qua non c'è ora ora io bestemmi arriva alvis ok guardiol dell'ipsia punto di domanda ma dove cosa per chi quando come cosa vuol dire in che è una cos'è una richiesta di così buttare le cose a che cazzo vuol dire guardi guardiol dell'ipsia punto di domanda che cosa perché quando come dove soggetto predicato allora ma con la retrocessione del cagliari non sarebbe possibile cranio una cranio se lo tengano cranio guarda salotto è un altro che non che non assolutamente non ce ne faccio niente catto mi fai morire non lo so ragazzi è questione di italiano è cioè non lo so uno fa una domanda e la fa bene capito cioè soggetto è analisi grammaticale vivo io veramente io resto stupito mi dispiace io non è che sono non è che sono uno che parla come come barbero capito magari anch'io non ho un vocabolario ricchissimo mi difendo bene per carità qualche regola la so però veramente sul mio canale devo dire anche meno che in altri e devo dire perché il livello comunque di cultura di conoscenza della lingua di padronanza della lingua sul mio canale fortunatamente anche migliore da altre parti ma perché non vi nascondo che io a volte anche quando vedo gente che un conto è farlo apposta e quello è nostrismo ma me ne rendo conto ma quando vedo gente che inizia a mettere accenti al posto di apostrofi cose del genere già iniziamo malissimo quindi quello è già a rischio quindi quello è già a rischio ban capito in genere però devo dire che in giro vedo anche su altri canali su altre piattaforme ma una conoscenza della lingua veramente ragazzi una padronanza della lingua ma io ma non me la prendo con voi è io non me la prendo con voi io non non ce l'ho con i ragazzi che hanno questi problemi che non conoscono molto io ce l'ho con con i maestri con i professori io quando uno mi scrive frasi sconnesse o quando uno mi scrive delle frasi grammaticalmente vergognose io prenderei questa cosa mi andrei ad informare sul mio percorso scolastico sul suo percorso scolastico andrei dalla sua maestra elementare del suo insegnante di italiano delle scuole medie andrei lì con il foglio dei suoi orrori e gli direi ascolti professor Rossi ascolti signor Bianchi ma com'è che lei era insegnante di italiano di questa persona qui per tre quattro cinque anni e questa persona qui non sa neanche scrivere in italiano corrente ma lei che cazzo ha fatto per quattro cinque anni lei non ha insegnato l'italiano la grammatica queste a queste persone com'è che abbiamo speso i contributi per darle i soldi ed è uscita gente che non sa neanche formulare una frase correttamente che non conosce la lingua io andrei a rendere conto purtroppo è pieno di gente così e guardate che la lingua non è la cosa finessa lingua importante perché ti aumenta la strutturazione del pensiero ti dà delle chiavi interpretative diverse maggiori più importanti ti apre le sinapsi ti dà delle sfumature nelle definizioni un vavero un vocabolario ampio significa avere un'ampia capacità di comprensione di quel che ci si è di decodificazione di quel che ci si sconda capito ecco questo vi dico comunque ho fatto questa intemerata qui ovviamente non è che ce l'ho con il ragazzo di prima ci mancherebbe era un discorso generale me lo concederete grazie claudio galano per la donazione ma torniamo a fare calcio io andrei dalla maestra dell'elementaria le direi mettimelo in una terrina condisciamelo un po che me lo mangio certo 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 assolutamente assolutamente chi vedresti bene all'inter come riserva a centro campo non ci ho onestamente finora pensato caro f410 anche qui adesso mi metto fomentato non mi va bene ma perché uno deve chiamarsi f410 ma perché uno non può venire sui social con il suo nome il suo cognome una foto capito un che io so chi ho davanti ma anche per uno deve parlare uno schema f4 che cazzo è dragon ball cos'è un mutante di dragon ball è un perché uno deve chiamarsi permettete i nomi che cazzo avete paura allora cioè hai visto e mi ha fatto una domanda non lo so f410 che cazzo siamo in farmacia non lo so vabbè sarò io un boomer per carità di dio salatino il mio cognome ero a raduno al franchi ah beh certo hai già parlato di bergomi e monarca sì assolutamente ho parlato prima ho parlato prima della questione oh eccolo qua alvis mi fa la domanda se bastoni dovesse andare via come vedresti guardiola all'inter guarda alvis io c'ho un altro nome per l'inter per quel che riguarda bastoni eventualmente ma anche perché attenzione ragazzi cioè vi do anche questo tipo di notizia se va via bastoni è anche perché probabilmente in zaghi pensa di poter utilizzare con continuità di marco come braccetto di difesa perché non ha senso che c'è di bastoni e poi magari spendi due terzi della cifra che è incamerato per prendere un sostituto se c'è di bastoni è perché la società inter pensa che si possa andare avanti con di marco braccetto di sinistra e poi ti dico anche un'altra cosa probabilmente l'inter farà bremer quindi io non me la vedo onestamente un inter che c'è di bastoni e prende due difensori centrali di top livello se c'è di bastoni pigli bremer e vai avanti con quelli che hai lì eventualmente bisognerà vedere cosa farà De Frey allora erede di che sì anche qui una puntatina che si sta per avverando che si sta per avverando che si sta per avverando Renato Sanchez Renatino Sanchez Renatino Sanchez ve l'ho portato io hashtag ve l'ho portato io come Sandro Tonali Sandro Tonali Sandro Tonali no che non passi sono Sandro Tonali se va via bastoni difesa a quattro ma guarda Daniele me l'hanno chiesto ieri anche l'altro cos'era l'altro ieri ieri live dal Fabio Bergomi e io gli ho detto guarda sarebbe molto bello però ci avete un allenatore che non ha cambiato modulo per tutto un anno cioè che non ha cambiato il modulo dopo che è arrivato non ha né cambiato il modulo rendendosi conto magari che il calciomercato aveva cambiato qualcosa e non l'ha mai cambiato neanche durante l'anno se non in certi spezzoni tipo contro il Bologna quindi effettivamente non sarebbe un'idea stupida quella di passare a quattro anche perché questa cosa ti permette di concentrare la forza della tua difesa però cambia molto è passare da tre a quattro cioè sostanzialmente la difesa è la parte più importante di un modulo di calcio perché parte l'impostazione perché parte il modo di difendere parte il modo di stare in campo quindi passare da tre a quattro non è un automatismo come magari è fare un attacco un 1-2 o 4-3-3 capito è un po' più complesso io onestamente non ho visto un mister che ha sta duttilità tattica o sta voglia di perdersi in evoluzionismi tattici di gran peso ripeto stiamo parlando di un mister che non ha mai cambiato schema da che è arrivato cioè l'Inter sta andando avanti con lo schema di Conte praticamente se tu vedi l'Inter del 2019 l'Inter 2022 ha lo stesso schema quindi non sarebbe un'idea stupida si potrebbe fare la difesa a quattro ma non mi sembra che l'Inter che Inzaghi ci abbia tutta sta voglia capito? Catto che ne pensi del nostrissimo Massimiliano Alvini allenatore del periodo caro lei io sono una bimba di Massimiliano Alvini ti sei perso magari prima una intemerata che ho fatto ma devastante su Alvini io prima ho detto alla Cremonese che deve prendermi Alvini me lo deve mettere in una terrina e condire Alvini e se la Cremonese prende Alvini io faccio spero che si salvi la Cremonese Alvini è un grandissimo e anche qui mi rivolgo a Dani ma perché voi alla Bobbo TV parlate solo di giochisti o anti giochisti perché il mondo deve essere diviso in questa in questa lotta titanica tra i Cortimusi e i Bielsa barra Guardiola ma in mezzo c'è tutta una sfumatura di allenatori assolutamente meritevoli che vanno parlati perché non si parla del tuchelismo dov'è il tuchelismo nella narrativa daniana rifletteteci Ashton perché non si parla di Tuchel oh ha vinto una Champions con il Chelsea contro Guardiola si parla più di Maran tra poco perché non si parla dei Juric dei 3-4-2iani perché non si parla di chi sta in mezzo perché non si parla dei Gasperini degli Alvini dei Tuchel degli Juric perché non si parla di questa gente qua e deve sempre essere tutto magari ricondotto estremamente perché non si parla io non ho mai sentito a Dani parlare di Sarri poi sicuramente ne avrà parlato e me ne sono perso io però al posto di fare sempre sta contrapposizione iperinflazionata tra il City di Guardiola e la Juve di Allegri ma guardate che il calcio è anche andato avanti c'è stato il calcio tedesco c'è un allenatore bravissimo per esempio austriaco che è quello che ha vinto l'Europa League con l'Eintrad Francoforte Glasner 3-4-2-1 calcio tedesco scuola fisica riaggressione perché non si parla di questa grande scuola che è la mia oltretutto del calcio liquido teutonico della riaggressione del gegen pressing del pressing alto dell'attenzione alle due fasi no è tutto Allegri o Guardiola e Cortomuso o Giochismo c'è anche c'è un mare di mezzo che secondo me merita che andrebbe valorizzato di cui si che non va perso di vista anche perché è molto attuale no? o sbaglio? si è arrivato a metà classifica in Bundesliga o verrete vabbè è arrivato a metà classifica in Bundesliga anche perché ti ha vinto un'Europa League insomma anche eliminando avversari di un certo peso io uno che vince un'Europa League non è che lo butto dal cesso come allenatore onestamente Europa League non conference o cose del genere Adani ha difeso spesso Tuchel e Gasperini e mi fa piacere ma ripeto spero che sia una cosa anche che vada aumentare perché per me deve essere quella la chiave di interpretazione e di interpretariato del presente mi farebbe piacere sentir parlare di più di questi allenatori mediani mezzani capito? non è che c'è solo gioco o non gioco eh o meglio non gioco o non gioco non è che c'è solo possesso orizzontale o contropiede da cagare ci sono anche cose di mezzo Doge hai ammirato il video di Dayeale post Vittoria Conference un mix di gestacci e classe non l'ho visto ma lo appoggio Dayeale io gli voglio bene gli voglio bene gli voglio bene Dayeale è un bravo ragazzo Dayeale l'allenatore del Friburgo ha fatto un miracolo sì ma io la Bundesliga la amo ragazzi Friburgo che tra l'altro ha preso anche Ginter andrà in Europa League e ha ripreso Ginter che lui è da lì Ginter ha fatto questa scelta anche abbastanza di cuore perché lui se non sbaglio è proprio di Friburgo ed è tornato lì Doge pare che come vice Cabral si voglia prendere Diuric della Salernitana nomi simili mi fanno pensare che questo anno non sia esistito e siamo appena tornati dalla salvezza con Cappellino allora ho letto anch'io questa cosa di Diuric onestamente ma vi dico anche di più e di peggio ho letto spero sia vivamente una stubitaggine e spero che sia una cosa veramente di stubitaggine che ci potrebbe essere il riscatto di Pionte e a me non va cioè vi ripeto come prima vi ho detto che Imeri secondo me sarebbe un buonissimo acquisto ecco se si fa attacco così non ci siamo se si fa centravanti così non ci siamo perché ripeto io come vi ho sempre detto la Fiorentina è una squadra che non può prescindere da un grande bomber a livello storico a livello di DNA a livello di di fomenti capito perché come dice questo libro qua ti ga capio ti ga capio ti ga capio quindi la Fiorentina storicamente ha sempre avuto grandi bomber ha sempre avuto grandi le grandi Fiorentine hanno sempre avuto grandi attaccanti e anche l'italiano questo te lo ha fatto capire ad un certo momento della stagione quando la Fiorentina faceva fatica anche di recente voi avete sentito l'italiano e cosa ha detto ha detto noi davanti non abbiamo un grande bomber e guarda che non è una dichiarazione da poco non è che è andato tanto per il sottile e io non voglio giudicare prematuramente Cabral dicendo che è un bidone per carità di Dio lo vedremo dopo il ritiro però che ci sia bisogno di numeri di concretezza di fare un salto di qualità davanti è sotto gli occhi di tutti anche perché purtroppo e qui secondo me qualche responsabilità è anche di italiano il gioco degli esterni alti della Fiorentina è molto cervellotico cioè lui dice che interpreta i nostri esterni alti come attaccanti purtroppo non mi sento di dire che è così sono lontani dalla porta devono si perdono in discesa indietro in recuperi palla non è così purtroppo caro italiano e quindi io gli vengo incontro quando lui dice che ha bisogno di un grande bomber perché abbiamo bisogno di gol abbiamo bisogno di gol e nella prima parte di stagione te li faceva Vlaovic è inutile girarci attorno perché era così io vorrei tornare a quello cioè avere uno davanti che dico beh cazzo ho lui e che se anche Cabral ha delle difficoltà se anche Cabral non si inserisce se anche Cabral si rivelerà magari un giocatore sbagliato da comprare ho uno davanti che mi risolve del problema che mi fa gol che gioca e segna che fa il centroavanti che segna e magari fa anche segnare quindi star lì a parlare del riscatto di Piontek cosa mi significa che andiamo avanti così? non mi pare che gli ultimi 4-5 mesi abbiano detto andiamo avanti così è un rischio e penso che di nomi migliori di Duric con tutto il rispetto per Duric che anche vi dico tatticamente di Duric avrebbe un suo senso perché è il giocatore che ha più contrasti vinti a livello di duelli aeree in serie A è uno che per gli esterni sarebbe molto utile per carità di Dio però ce ne sono anche di meglio ragazzi ce ne sono anche di meglio i nomi sono sempre quelli Scamacca Pinamonti se vuoi fare le cose in grande all'air se proprio vuoi regalare un 9 da andare a presentare allo stadio con tutta la città di Firenze che poi si fomenta il ruolo del centroavanti ragazzi a Firenze è anche catartico perché poi il pubblico di Firenze se lo conosci tu sai che se gli porti un grande 9 la stagione inizia già con dei grandi auspici ma si sono fomentati per Cabral con tutto il rispetto se tu porti un grande 9 alla Fiorentina è la memoria vibe attistuta la gente si gasa la gente supporta la gente ti fa anche vivere delle vibes capito dal ritiro in estate che sono diverse perché c'è c'è l'entusiasmo la gente non vede l'ora magari di scendere in campo e vedere l'allaire di turno che ti dici cazzo ci abbiamo come vi ricordate l'anno di Mario Gomez poi andò come andò purtroppo per carità di Dio però ragazzi c'erano 40.000 persone allo stadio per una Fiorentina che comunque fece un'ottima stagione supportata dalla gente dalle folle quindi il ruolo del centroavanti un po' dappertutto ma specialmente alla Fiorentina è un ruolo catartico è un ruolo secondo me vi ho fomentato vi ho capito bene io penso proprio di sì io punterei su Belotti come spalla di Cabrali io no perché il nostro modulo non prevede spalle se giocassimo con le due punte ci penso ma nel nostro modulo non c'è di che fare spalle non c'è di che avere spalle 483 è un modulo con un centroavanti e due esterni non esistono spalle Alec ma cosa ti aspetti dalla Fiorentina in conference la prossima stagione Adri è una domanda molto difficile a cui rispondere bisogna vedere che squadra avremo noi che avversari affronteremo che squadra avranno gli avversari chi becchiamo al playoff chi becchiamo nei gironi è difficile quali squadre rimarranno in gioco ad oggi il centroavanti è perfetto per la Fiorentina e Icardi no non sono d'accordo Nicola Icardi Icardi è un Piontek per Abbienti Icardi è un Piontek per Abbienti cioè credo che non vi siate dimenticati le bestemmie che spesso sentivi tirare anche gli interisti su Icardi quando con Spalletti dicevano ma questo sta in area di rigore non fa un cazzo aspetta che gli arrivi la palla la butta dentro ma di aiutare la squadra non se ne parla se abbiamo passato 5-6 mesi a lamentarci di Piontek che in area di rigore è anche dignitoso ma poi fuori area sparisce ma maggior no a noi ragazzi ve l'ho detto 100 volte ci serve una prima punta alta fisica strutturata che abbini capacità di fare gol alla capacità di tenere la palla di aprire spazi di tornare indietro di fare a sportellate di portarsi via uomini è un ruolo complesso è una ghiandola pineale nel gioco di italiano la punta capito è una ghiandola pineale a Firenze ecco segnatevi questo prendete blocnotte se scrivete a Firenze il centro avanti è la ghiandola pineale della squadra quindi io andrei ragazzi Scamacca Pinamonti Pinafeci Kalazic Aller Maupay questa gente qua gente no da tergiversare capito no da forse alle caratteristiche pigliami all'air fai un modo che riempi lo stadio ti vai in Europa mettici un giovane con il sassuolo e portati a casa Scamacca mettici quei 10 milioni in più al posto di darli per il portiero mettili sul centro avanti che non sono mai soldi buttati vai dall'Inter e pigliati un Pinamonti che è un giovane che lo vedi che ha la stazza che ha la presenza che ha l'eleganza che ha la visione che ha la statura di un attaccante importante non stare a tergiversare sulla punta non si tergiversa sulla punta ragazzi a Firenze Arnautovic no onestamente anche perché andare lì dal Bologna prendersi la punta è tutto trito sarebbe come sarebbe come che tu sei a mensa con un tuo amico lui sta mangiando un minestrone glielo prendi e gli dici adesso me lo mangio io vatti al bancone e prenditi un piatto nuovo un piatto saporito un piatto tuo andare è come se io fossi andare a prendere Arnautovic dal Bologna è come se io andassi a mensa con Bepi capito e lui sta mangiando una sua minestra io gliela prendo e me la mangio io questo sarebbe andare a prendere Arnautovic vai a prenderti un piatto tuo vai al bancone con delle idee vai al bancone a prendere una roba nuova non prendermi il piatto a me una minestra scotta scondita che me la mangio io spero vi sia piaciuto il paragone perché è di qualità doge ti gaserebbe un cavani no fa un fatto ma oggi cosa avete preso la pillola dei ritardi veramente è da mezz'ora che sto facendo una riflessione dicendo investi sull'attaccante arriva e uno mi chiede di cavarli quanto saresti disposto a pagare per Pinamonti anche 20 anche 25 mi chiedono 20-23 milioni per Pinamonti glieli do attorno ai 20 glieli do Sasa Kalazic non mi sembra male te lo conosci lo conosco e come Kalazic è un ottimo attaccante attaccante dello Stoccarda alto fisico è quello che ci ha segnato gli europei quello che ci ha segnato gli europei unica pecca è che è un po' fisicamente è un po' è un po' tipo crouch capito cioè nel senso che bisognerebbe lavorarci un po' a livello di equilibrio ma comunque non è messo male cioè nel senso di avere la forza nelle gambe di sostenere il peso che sta sopra ma comunque non è un grosso problema però anche a livello di infortuni a volte un po' cagionevolino un po' cagionevolino però se mi portassero Kalazic mi andrebbe bene mi piacerebbe ci starebbe sarebbe una buona soluzione e forse sarebbe anche quello che occluderebbe meno Cabral perché magari tra il problemino fisico di turno tra la partita che ti salta perché così Cabral avrebbe più occasioni per giocare sicuramente rispetto a se magari prendi uno scamacca no? ma a parte che anche lì non è un problema perché se tu pigli scamacca hai tre competizioni sto anno e poi italiano è un allenatore che non si fa riverenze con italiano avete visto gioca chi più in forma gioca chi sta meglio gioca chi merita quindi sta cosa qui che ha anche delle controindicazioni però visto che in certe cose ha delle indicazioni positive usa la tua vantaggio prenditi due punte forti e vale a farsi scontrare nel merito capito? come quando Duncan vi ricordate quella foto che ha messo i conè con Duncan che si allenavano da solo e ho scritto tu non passerai capito? quella mi ha gasato sembrava una scena di Dragon Ball capito? ecco vai a scatenare una cosa del genere mangia bene mio fratello ecco vai a scatenare una cosa del genere positiva propositiva anche con il centroavanti ciao puttaniere Viola rifiuti Icardi e Cavani ah 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 cazzo ridi sì che cazzo ce ne facciamo di Icardi che è un attaccante che non c'entra niente col gioco di italiano e cosa ce ne facciamo di Cavani che ha 86 anni tu devi essere uno di quelli che andava allo stadio ad applaudire quando abbiamo preso Boateng e Ribery tu devi essere uno di quelli ancora non si è capito dopo due o tre anni che le squadre si fanno con la gente giovane fresca con la gente che ha fame che ha voglia di dimostrare ok no 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 non ha figa ha caccia non ha figa ha caccia con Zao allora perché non un Vegorst o Cornet dal retrocesso Barley Cornet è un esterno e come dici tu un esterno non c'entra niente per quel che riguarda Vegorst ragazzi io vi ripeto la Bundesliga la seguo Vegorst è un buon è un buon attaccante ok ci sta però è stato anche un po' secondo me non dico pompato però un po' inflazionato sì per esempio il Wolfsburg ha un attaccante che è molto più forte di lui per me che è un matcher è un matcher del Wolfsburg che è veramente un attaccante forte valido che io se avessi bisogno tatticamente di quel tipo di gente ci punterei Vegorst è un po' un Werner Light ma anche al Barley per esempio sebbene la pontatina fosse di livello perché Vegorst Vegorst al Barley mi ha risvegliato vibes che non provavo dai tempi di Pogrebniac al Reading però non è che ha l'avete visto ed è andato al Burley non è che l'ha preso il Chelsea anche un Leicester banalmente e via dicendo non mi scalda Vegorst c'è gente che costa meno e che secondo me ti può anche essere più utile Luke de Jong mi è sempre piaciuto è un po' stagionato è un po' stagionatello va detto però a me gasa moltissimo io l'ho sempre amato tantissimo come giocatore ecco Luke de Jong dalla Fiorentina ha la sua età ma me lo prendo volentieri me lo porto in saccoccia me lo metto lo vado a prendere io Luke de Jong dal Barcellona è un po' anziano ma ecco lì è un'anzianità umana ma è un giocatore ragazzi oh ma ve la ricordate la finale contro l'Inter guardate che due gol così in finale non non li fanno tutti non sono gol che fai tutti i giorni non sono gol che fai tutti i giorni De Jong al volo me lo prendo De Jong al volo me lo prendo assolutamente sì Luke de Jong è ancora un grande sì tecnica statura altezza ecco l'unica cosa va detto è che non so se alla sua età avrebbe da un lato la fisicità e dall'altro anche per certi versi uso un termine un po' duro ma l'umiltà di mettersi a disposizione di italiano in quello che italiano chiede al suo centravanti sarebbe un attaccante migliore da prendere in una situazione nella quale non gli richiedi granché a livello tattico e hai solo bisogno di uno davanti di peso di tecnica di capacità ecco quella potrebbe essere una controindicazione però siccome personalmente sono una bimba di Luc De Jong qualora dovesse arrivare Luc De Jong alla Fiorentina ragazzi io io ci sto alla grande io ci sto alla grande io ci sto alla grande ragazzi mettete mi piace ma non non chiedetemi puntatine o cose facciamo chiedetemi di affari perché poi mi venite a rompere i coglioni magari io faccio un video parlando del Milan e venite a rompermi i coglioni chiedendomi che cosa ne pensi di Perisic al Tote chiedetemele adesso queste cose che sto facendo le live apposta ok per parlare degli affari di mercato cogenti di quello di cui si sta parlando stasera chiedetemelo adesso no ah e vi e vi preannuncio già una cosa guardate che quando farò i cattomercati di non venire sotto i video a a a a mettere le vostre puntatine i video che io farò dovete dirmi la vostra opinione sulle puntatine che faccio io nei cattomercati poi delle vostre parleremo in live me le esporrete ma quando farò i video dei cattomercati dovete dirmi cosa ne pensate della squadra che ho scelto io non delle squadre che costruirò voi attenzione perché vi bannerò se troverò dei commenti con scritto io avrei preso io avrei no dovete dirmi la vostra sulla squadra che costruirò io ok se no ban eliminazione devastazione sculacciate insulti capito ecco attenzione uomini avvisati mezzi salvati sì Antoine ho risposto su Paris e c'è il Tottenham e ho detto ragazzi un po' è un peccato perché è un giocatore di esperienza di qualità di forza di raffazzonamento quindi per me l'Inter doveva cercare di tenerlo ecco mettiamola così sì Plozzo ho parlato prima dello scambio Kwame e Gollini no scusa ma se uno fa perde tempo anche magari a fare un video costruendo una squadra e nei commenti devo leggere la squadra che costruirebbe una ma no faccio il video io la squadra è mia ditemi cosa ne pensate di quella squadra poi eventualmente nelle live dopo mi dite io prenderei Tizio e Caio all'Inter prenderei Tizio e Caio alla Juve prenderei Tizio e Caio alla Fiorentina e come sto facendo adesso vi dico cosa ne penso ok siccome vi conosco e so come andrà che molti arriveranno sotto i commenti a scrivere Pilio Tizio nome Caio che cosa ne pensi di Tizio al posto no ditemi cosa ne pensate della squadra che faccio io sennò è inutile che la faccio faccio un video con io che mi gratto i coglioni che mi raspo i coglioni e sotto nei commenti ricevo lo stesso tipo di input con la gente che mi chiede come vedrei questo o quel giocatore in determinata squadra mi risparmiate di fare il cattomercato di fare l'editing con il campo a fianco di fare i tagli e facciamo fatti no se faccio un video è perché mi fa piacere di mostrarvi quella squadra come la costruirei io e che voi mi diciate mi piace non mi piace oppure Tizio e Caio o sbaglio chi ti piacerebbe come esterno destro al Milan non vale Bernardeschi Giorgio ti cito ti cito un giocatore che vi ho già di cui vi ho già parlato di cui vi ho già parlato di cui vi ho già parlato ma tu tu mi dici non citare Bernardeschi io intanto piglierei lui poi un giocatore che andrei a prendere e che prenderò al cattomercato ve lo ho già spoilerato per rafforzare la tre quarti offensiva ma anche come possibile utilizzo da centro avanti è il buon Sabiri che è uno che se tu giochi con il 4 231 potenzialmente è uno che ti può giocare in tutti i ruoli d'attacco sia dei tre che del centro avanti se giochi con il 4 3 2 1 è uno che ti può giocare nei due e nell'uno quindi Sabiri Bernardeschi Sabiri Bernardeschi ragazzi questi sono due giocatori che al Milan vi ritrovate inutile tanto fare misteri anche perché vi spiego un po' l'ordine dei cattomercati adesso vi spiego un po' come funzionerà lunedì ovviamente partiamo con il cattomercato della Fiorentina perché giustamente si parte dalla Fiorentina se parte dal paron de casa poi seguiamo l'ordine di classifica farò martedì Milan mercoledì l'Inter giovedì Napoli e vi avviso che voi sapete che ogni anno c'è il cattomercato pazzia capito come fu quello della Juve l'anno scorso magari quest'anno ce ne sarà più di uno ma sicuramente quello del Napoli farà parte dei cattomercati pazzia perché mi sono rotto i coglioni hanno rotto i coglioni a spalletti hanno rotto i coglioni tutto l'anno a spalletti io glieli rompo nel cattomercato io rompo tutto cattomercato devasto tutto proprio rivolto il Napoli come un calzino volete la rivoluzione ve la do io volete la rivoluzione via spalletti la faccio va bene la faccio io quindi Napoli sicuramente sarà una cosa veramente devastante poi andiamo a Scalata Juve Lazio Roma Atalanta Verona Udinese e delle altre vediamo vediamo se qualche abbonato intermedio vediamo se qualche abbonato vuole che faccia dei cattomercati anche di altre squadre un po' come l'anno scorso insomma farò anche su richiesta i cattomercati ecco mettiamola così ma solo io aspetto il micospargo il capo di feci cattodigital tour e il ve l'avevo detto cattodigital tour sì perché ho detto che quest'anno non li faccio perché sono video che cagate in due tre sono video che non che non trovo onestamente non trovo neanche giusto fare per carità il ve l'avevo detto cattodigital tour è un po' un farsi pompini a vicenda e il micospargo il capo di feci di digital tour ma perché devo farlo io che tutti gli altri youtuber non lo fanno e sembra che abbiano ragione sempre su tutto chi sono io il figlio della serba che devo fare quello che dice ho sbagliato ma andate a fare in cura no no quindi quei video sono sospesi se avete qualcosa che mi volete chiedere su mie opinioni se ho cambiato delle idee su cose che abbiamo preso su degli orgogli che mi porto avanti su qual è stata la cosa che più mi ha dato soddisfazione quest'anno o quella che mi ha deluso di più vi rispondo assolutamente molto volentieri e con il sorriso ma di stare a perdere tempo a segnarmi tutte le cose le inezio le piccolezze che ho detto da settembre fino ad oggi riportarle per video che vedono in due o tre persone non veramente no basta anche perché non trovo giusto di essere l'unico a farlo capito e quindi per me è un grande no hai visto cancellieri convocato da mancini no perché io io caro pietro la nazionale non la seguirò più finché ci sarà questo allenatore ho fatto un fioretto ve l'ho detto non chiedetemi di commentare nazionale io la nazionale finché c'è mancini non la commento possiamo anche andare al mondiale io non commenterò la nazionale finché il ct sarà Roberto Mancini per una questione di principio quindi per me io non mi spiace perché l'avrei seguita volentieri perché avrei visto volentieri una ricominciata della nazionale magari anche con un Ancelotti con un allenatore adatto avrei anche se Mancini si fosse dimesso o se ci si fosse separati da Mancini avrei avuto anche parole comunque gli avrei riconosciuto l'onore delle armi avrei apprezzato il gesto se ne sarebbe andato dal signore invece io sono rimasto schifato più dal post Italia-Macedonia che dalla stessa eliminazione dell'Italia contro la Macedonia perché per quanto ignominiosa per quanto devastante per quanto impreventivabile ingiustificabile quella è una vicenda sportiva e nel calcio si sa è bello anche per questo la palla è rotonda e può succedere di tutto ma quando succede poi una cosa del genere bisogna vedere come la si è gestita prima non bisogna guardare in faccia a nessuno invece c'è stato un coro mediatico vergognoso una difesa a prioristica fatta di paginacce social di narrazioni autoassolventi l'altro giorno mi devo sentire Mancini che dice in Serie A gli allenatori non fanno giocare i giovani tu parli dopo quel girone che abbiamo fatto di qualificazione veramente quindi io la nazionale finché c'è Roberto Mancini alla guida della nazionale io non la seguirò più non la seguirò più se resta vent'anni Mancini non la commento non mi sentirete parlare di nazionale sulla convocazione di cancellieri ti dico non mi stupisce perché cancellieri è un ottimo giocatore e quest'estate ve lo porto alla Fiorentina quindi questo io ho da dire Doge hai già deciso quante squadre seguirai la prossima tagione vedo vedo che stiamo salendo fortunatamente con il livello di intelligenza delle domande mi fa piacere mi fa piacere detto questo caro non mi ricordo chi mi ha fatto una domanda ma ti ringrazio per lo spunto e ti dico grosso modo rimarranno le stesse ovviamente perdiamo purtroppo il Venezia perché non ci sarà più in serie A ma credo che non ne aggiungerò un'altra avevo avuto il pensiero di seguire il Napoli con costanza no di 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 inserire il Napoli nel lotto di però guarda poi invece io penso che seguirò tutte quelle che abbiamo seguito quest'anno grosso modo senza il Venezia che così magari abbiamo un po' più spazio a quelle quindi seguiremo in primis ovviamente la Fiorentina seguiremo le tre strisciate seguiremo le Romane più la Lazio magari che la Roma comunque in genere le Romane e le due Trivenete questo grosso modo seguiremo ok con Dybala Lautaro e una punta Inzaghi costretto al 3421 io ve lo auguro ma onestamente non lo so ma poi a me a me fa anche un po' sorridere il dibattito sterile che c'è attorno ai tifosi e la tifoseria dell'Inter no perché tu vai ad ascoltare anche molti youtuber e sembra che sia tutto bene tutto bello non serve cambiare niente abbiamo vissuto una stagione fantastica e poi ci sono anche gli ipercritici per carità e non vanno bene neanche quelli però per esempio due riflessioni sul modo di giocare dell'Inter a livello di schema per me quest'anno andavano fatte e andavano fatte per tempo invece sembra sempre che vada tutto bene che l'Inter riparta da delle vittorie assolute io invece ripeto se fossi interista sarei un po' abbastanza coi coglioni girati e ci avrei ancora in testa la gara di Bologna e questo dello schema per esempio la percepirei come un'urgenzialità però vai su tanti altri canali youtube dell'Inter e sembra che stai parlando di una squadra che ha appena fatto un triplete capito e io fare calcio così recepire calcio così non è che lo capisca molto onestamente no o sbaglio Acra il Venezia risale subito vai guarda io lo spero vivamente Acra perché ovviamente è una squadra che mi è vicina è una città che per me deve stare in serie A però sarà una serie B difficile quest'anno perché tra il Parma che comunque se prende Pecchia per me fa già un'altra cosa un altro stubitaggio tra il Parma comunque il Cagliari il Genoa e via dicendo no allora Giulione Foremmo scusa adesso peto anche te ma perché tu devi cioè vedi tutti che scrivono no e perché tu devi evidenziare il mio nome e cognome perché vuoi che ti leggo prima degli altri ma se uno vuole che lo leggo prima degli altri non deve evidenziare il mio nome o cognome se vuoi avere una priorità ci sono gli strumenti per farlo per educazione per sensibilità no che devo vedere il mio nome in arancione con te che spami la domanda e gli altri cosa sono tutti deficienti oggi oggi vi scorreggio perché oggi meritate insulti e scorreggio anche questo mi manca la postazione vecchia per le like con il microfono esiziale ti banno vabbè io ti ma cosa vuol dire ma cosa vuol dire ma tu cioè il tuo problema nella vita sono io che cambio postazione per fare i video le live magari non le faccio lì perché lì non posso usare il cellulare e ho la connessione che fa schifo e magari le faccio qui perché qui invece posso mettere il cellulare e ho la connessione che va meglio no posso bannarti cioè veramente quando leggo una cosa del genere mi viene voglia di bannarlo a me un utente che scrive queste cose non so ditemi voi chiedo la chat ma uno così no ma che problemi c'hai cioè siamo in un mondo nel quale purtroppo c'è la gente che muore ci sono le guerre ci sono le pandemie c'è la gente che non arriva a fine mese c'è la gente che non sa scrivere in italiano e tu devi venire a rompere i coglioni perché cambio postazione per fare i video e le live ma ma veramente ma a voi di allora vi piace creare problemi alle persone e no è da bannare ragazzi che due coglioni e fai i video con uno e quando porti l'altro e fai i video con l'altro quando porti tizio e fai i video con tizio e quando porti caio fai i video sui cattomercati e io prenderei tizio caio ma che due coglioni no non lo banno perché sono buono vabbè però spero che si sia capito spero che si sia capito allora De Ketelera è un fenomeno sono d'accordo Rai infatti vi spoilerò che è un giocatore che nel plico ha inserito che di esse vedresti bene a Lellas Verona visto che D'Amico se n'è andato oh vedi vedi una domanda intelligente educata in italiano corrente in italiano piacevole in italiano educato con un nome e un cognome non spammata 600 volte così è bello interlo così è bello rispondere ok non ho gente che spamma che caga che rompe i coglioni così si fa calcio e caro Pietro ti rispondo molto volentieri a Cardi a Cardi a Cardi sarebbe ottimo però ti dico anche che nel momento in cui tu vai a prendere Cioffi il DS può anche non dico che può andare in secondo piano però comunque se tu mi prendi Flavio Cioffi prendi un allenatore di personalità e sono convinto anche che prendi un allenatore che qualche idea sul prendere i giocatori te la sa anche dare quindi io ti dico se proprio si vuol scegliere un DS messo bene un DS importante io andrei a prendermi a Cardi che negli ultimi anni ha fatto ottime cose però intanto l'importante è che si ufficializzi Flavio Cioffi che sarebbe un ottimo colpo allora punteresti su Zurkovski quest'anno assolutamente sì lo riporterei a casa e lo farei giocare sì Solix si parla di Marroco e il Verona come favorito oh se prendi Marroco e Cioffi per me ci sta per me ci può stare e va bene e te l'appoggio diciamo preferisco a Cardi a Marroco che non è che venga da anni propriamente però diciamo tra un po' l'ambiente un po' il presidente un po' l'allenatore magari anche Marroco può avere una crescita anche di un certo tipo come succede ai giocatori può succedere anche ai dirigenti ma l'importante è che a Verona si metta nero su bianco il Cioffismo io voglio il Cioffismo a Verona Tudor vada via Tudor mi ha già stancato basta via Tudor voglio Cioffi viva Cioffi voglio Flavio al Verona il Lecce di Corvino lo seguirai Barnolfo con tutto il bene del mondo ma no lo commenterò quando saremo in live quando mi farete delle domande quando giocherà contro le squadre seguite molto volentieri magari se sarà il caso ci farò anche dei video dedicati se succederà qualcosa di importante però no Ale chi della primavera viola reputi pronto per essere aggregato in prima squadra guarda Angelo onestamente io non aggregerei nessuno perché questo non è un anno secondo me nel quale noi dobbiamo aggregare primavera o puntare su dei giovani acerbi è un anno nel quale noi dobbiamo puntellare attraverso un calciomercato non di rivoluzione ma rafforzativo in quei famosi tre quattro cinque ruoli che dare a incasellare ok e non andrei abbiamo già dei giovani su cui puntare dei giovani da valorizzare e con rischio poi magari tu vai a prendere un primavera lo metti in prima squadra e il rischio è quello che giochi poche partite no e poi a esservi onesti non vedo non vedo una cioè non c'è il castrovilli o il sottil di turno che mi strappa gli occhi capito sì Agostinelli è un buon giovane però ecco voi ora mi sputerete in un occhio ma più che metterli in prima squadra sono giocatori che inserirei in delle trattative quando verrà svelato il pangasio caro marchigè questa è un'altra cosa che da quest'anno sparisce perché poi onestamente poi si travisa poi mi rompono i coglioni ma tu avevi messo questa nel pangasio via via anche il pangasio qui si tifa Fiorentina e stop e le altre si valutano in base agli andazzi e ai fomenti quindi anche il pangasio Gatto come vedi Divo Corigi al Milan ma caro Salvatore ci sta ci sta nel senso che non è vecchio un giocatore oddio non mi sembra una punta da 30 gol essere onesti è una punta però con una discreta fisicità una punta che in un campionato come la Serie A può anche diventare può avere un certo protagonismo non è per dire un Eibram io al Milan avrei portato Temi Abram 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 come lo chiamano no? al Milan avrei portato Temi Abram Illo Tempore che è anche amico di molto amico di Tom Horry e lì per me ti sistemavi con Abram al Milan ti sistemavi per 4 5 6 anni finché non decidevi di cederlo no? quindi diciamo che Origi è ancora comunque un po' una soluzione tampone no? per certi versi ricalca l'affare Giroux con qualche anno in meno però non si butta neanche via e soprattutto ve lo vado io a prendere un giocatore sostituto cioè ve lo vado a prendere io un giocatore che vi risolverà molto a livello offensivo e non solo Tommaso Mariniello carissimo come vedi Tamese a Firenze ma a me sembra una voce di mercato abbastanza infondata cioè non 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 dico infondata ma con poco senso con poco senso perché ma perché abbiamo passato tre quarti di anno a dire che Amrabat non andava bene per il gioco di italiano perché perché le mezzali di italiano devono vedere la porta e devono e devono fare gli inserimenti Tamese magari sarà più capace di farli di Amrabat per carità però primariamente mi sembra un giocatore che tu a centrocampo metti per mazzuolare metti per recuperare palloni metti per strappare la palla dall'avversario quindi se ti serve un giocatore di quel tipo per me non serve Tamese perché abbiamo Amrabat che è ancora più forte secondo me a farlo se ti serve invece un centrocampista che abbia visione sulla porta e che si inserisca e che veda il gol non vedo in cosa può essere utile Tamese ce ne sono di molto migliori anche a Verona e non serve che vi faccia il nome che faccio sempre caro Ale tra Vicario e Gollini approvi la scelta di puntare sul secondo si dice che lo abbia voluto in particolar modo se si deve scegliere tra Vicario e Gollini scelgo con tutto che vi ripeto per me il portiere non è una priorità e andrei anche avanti con Terracciano Luca Gotti vicinissimo allo Spezia che ne pensi? ma gli auguro oddio a lui auguro di fare bene però a esservi onesti se lo Spezia retrocedesse ma una bella tovaglia a quadri bianca e rossa un bel bicchiere di latte magari intero fresco alle nove di mattina così e una bella selezione di brioche ma me la faccio volentieri se lo Spezia retrocedesse anzi anche doppia anche doppia quindi diciamo va in una piazza che non è che mi piaccia particolarmente anche per i tifosi sono spesso dei rompicoglioni allo stadio sui social per carità del signore non mi preservi dallo Spezia quindi non è che vai in una piazza che particolarmente mi stia simpatica ma una scelta da una scelta da sei una scelta da pareggio così può avere gli strumenti per salvarsi anche perché lui per certi versi è molto un gestore no non è che va tanto a rompersi i coglioni da quel che ho visto a Udine a recepire particolari sistemi di gioco importanti lui lui è un'altra scelta che è un'altra scelta che è un'altra scelta che è un'altra scelta quindi visto che Tiago Motta ma soprattutto italiano hanno lasciato un imprinting positivo hanno lasciato dello sperimentalismo tattico di un certo peso e comprovato Gotti può anche sedersi sulla macchina e non fare danni ecco lui tra l'altro con la difesa a 4 ha avuto modo di recepire anche a Udine quest'anno non con grandi frutti però quindi è una scelta da 0 a 0 da pareggio da 6 ci si può fare bene dipenderà anche dal mercato posto che non ho capito se gliel'hanno bloccato lo possono fare dipenderà anche dal mercato poi aveva detto una cosa giusta anche Marchiolla l'altro giorno cioè il fatto di dire ma questo Pirlo qua non si è capito cosa vuole fare da grande c'è anche Pirlo che piazza vuole allenare cioè vuole allenare una grande sta aspettando una grande sta aspettando una squadra di media classifica perché ogni volta che lo avvicinano a squadre di lotta salvezza poi non se ne fa più un cazzo se ne parlava alla salernitana poi non adesso si parla alla cremonese ma non è mai dato come il favorito se ne parlava allo spezia non si è fatto niente o sono tutte balle o magari lui vuole una piazza un po' più corposa ecco se hanno il mercato bloccato la cosa si complica ragazzi perché col mercato bloccato e le altre le altre giustamente cercheranno di rafforzarsi tu rischi di rimanere al palo quindi diciamo che di anno in anno la cosa si complica però va anche detto che è una piazza anche piccola una piazza dove non è che ci siano magari delle pressioni devastanti diciamo che non è una scelta sbagliata ecco non è non è una scelta sbagliata Gotti alla spezia non è magari una trovata che dici minchia che chiamata di allenatore che hanno fatto però è anche una piazza per conto suo in questo momento capito tra il discorso del mercato tra il discorso di Tizio e Caio Gotti allo spezia si farà vedere si farà vedere lo giudicheremo lo valuteremo è una scelta diciamo con la quale non ti sei particolarmente esposto e di conseguenza nanch'io me la sento tanto di dire o bianco o nero o fuoco e fiamme o schifo totale lo valuteremo lo assaporeremo così no? Bravo fede sovrano torta a forma di cazzo questo è una grande chiamata è una grande citazione lecca 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 eh ti hanno gasato con le storie ti ha gasato con il profilo allora oh comunque ragazzi avete sentito di Odriozola parlando di Fiorentina che ha praticamente salutato ha detto ha detto adesso mi sento pronto per il Real Madrid è ambizioso ragazzo eh minchia è ambizioso ragazzo eh oh auguri auguri che qua qua da me si dice che che il signor ti amandi buona che il signor ti amandi buona minchia mi sento pronto per il Real Madrid è ambiziosello eh è ambiziosello il ragazzino che ragazzo poi magari va a Madrid fa bene trovare però figa mi viene a dire se Odriozola si sente pronto per il Real Madrid Teo Hernandez dove deve andare a giocare sulla luna non lo so no non è che gli auguri per carità bravo ragazzo mi sembra però è dura qua bisogna bisogna vedere anche se il Real Madrid lo conferma no io sapete dove vi do questa puntatina tra capo e culo sapete dove ce lo vedrei bene Odriozola a Leintracht Francoforte l'Eintracht adesso si farà l'intrattenimento Francoforte si farà la Champions no oltretutto se la farà anche in prima fascia perché chi vince l'Europa League va in prima fascia un bello Odriozola sulla fascia destra dell'Eintracht se sei bravo a trattenerti Kostic ti fai Odriozola Kostic lui ha anche già giocato in Germania col Bayern ha giocato ha fatto cinque partite vabbè Odriozola all'Eintracht Francoforte a Real rimandiamo indietro venuti al posto suo magari non sei d'accordo Orazio Grinzosi Doge frattesi alla Roma come lo vede allora tra l'altro ho letto che la Roma probabilmente l'anno prossimo forse forse inizierà a giocare a 4 quindi 4 4-2-3-1 4-3 io vi spoilerò già questo la Roma la farò con il 4-3-2-1 quello per me è lo schema con il quale la Roma deve giocare come il Milan Milan e Roma alberi di Natale nei cattomercati frattesi alla Roma allora tu adesso hai Pellegrini parlo di potenziali centrocampisti Pellegrini Cristante Sergio Oliveira che bisogna vedere cosa fare Veretù allora oggettivamente frattesi sarebbe una buona chiamata un buon colpo però ho paura che per caratteristiche non sia un netto stacco con gli altri che è già in rosa punto primo e punto secondo ce l'ho io il nome adatto alla Roma quindi quando uscirà il cattomercato della Roma caro Orazio te lo do io il nome che lì non è che si va tanto per le sottili non è che si scherza o si dice forse si può andare no meno qua te lo do te lo darò io poi il nome Fabio Garbino Ale Sottil Udine Tigasa ne parla di Fabio ne ho parlato prima no si parla di Sottil si parla di Semplici andiamo su Zanetti cioè Udine faccia vada su Zanetti no è lì era allenava vicino casa un allenatore giovane ti costa poco in crescita non andrei tanto a rompermi i coglioni così con Sottil che è sotto ma è su Zanetti è libero è lì ti sta aspettando l'avevi cercato anche l'anno scorso una bella cacciagione di Starne una bella uccellagione di Starne nel Sassilat con con Zaul quindi io a me va benissimo Cioffi a Verona e non vedo l'ora di vederlo in scena mi gasa veramente Cioffi a Verona anzi vi dico già Verona se arriva a Cioffi si punta si punta all'Europa eh Europa Europa con Cioffi esigo la conference almeno Europa è Europa con Cioffi al Verona anche il cattomercato e tutto Europa Europa è che sia Europa è 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 con Cioffi Europa è se a Udine si incastra a Zanetti mi va bene diciamo che è un nord est che mi va assolutamente bene chiudiamo se chiudiamo il capitolo allenatori a nord est con Cioffi a Verona e Zanetti a Udine anche proprio a livello di ripeto prima se voi poi vi recuperate l'inizio della live vi ho fatto anche una narrazione filosofica oserei dire filologica proprio delle di cosa significa tizio Caio Fabrizio Romano ha confermato un minuto fa che la trattativa fra Fiorentina e Atalanta per lo scambio sta andando in porto va bene va bene però anche qui ragazzi non è che ci può essere ufficialità ancora vediamo Qame qual era il giocatore Gollini vediamo qua passi avanti in una trattativa si pensa allo scambio contatti sì sì no operazione che ripeto se viene fatta l'unica riserva è che magari poi ma questo lo valuteremo alla fine del calciomercato magari i soldi che ti entravano che ti possono entrare da Qame potevano essere più utili più per altri ruoli però va anche detto che non è un profilo magari semplicissimo da vendere no quindi è uno scambio che ma ci sta ma ci sta ma ci sta preferisco assolutamente Gollini a Vicario mi gasa Gollini buona chiamata buona chiamata Gollini a Firenze ci sta poi lui è anche di Firenze se non vale Gollini non è di Firenze quindi ci sta quella arroganza diciamo nostra gasa Gollini ci sta mi piace mi piace Gollini ma anche i Meri anche i Meni i Meri i Meni mi piace ah è di Bologna ah ecco bravo no ha ragione SZ ha fatto le giovanili Beccagli Simone Doge fa caldo pure a Venezia troppo io odio l'estate fa già un caldo pazzesco infatti mi dovrò organizzare per andare al mare perché c'ho veramente i coglioni in ammollo siamo al 27 maggio ho già i coglioni in ammollo c'ho i coglioni veramente che sono dicevo c'ho i coglioni in ammollo avete mai visto quei vasi con le olive di cerignola dentro la salamoia ecco sono i miei coglioni veramente sono sono già sono sono i miei coglioni sono e io odio questa sensazione qua c'ho veramente i coglioni in ammollo al mare ti trovi con Beppi e il Bruni sì 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 assolutamente ghiacciolo e fagioli certo d'oggi l'attacco dell'Inter deve essere futurista Pinamonti e Cancellieri è un grande sì al posto ma l'Inter di Cancellieri cosa se ne fanno non ha lo schema per Cancellieri su Pinamonti concordo eh sono aperto le finestre questa è aperta no Manuel non mi piacciono molto non li ho mai provati va bene però non è che non sono mai stato molto attratto all'idea però non li ho mai provati Erlich se parte Milenkovic allora Tommaso io spero vivamente che Milenkovic non parte e che venga rinnovato però nel caso in cui dovesse partire Milenkovic Erlich mi sta bene mi sta bene o meglio farei 3-4 giorni a porconare a bestemmiare e a battermi i coglioni con il battipanni questo che sia chiaro però dopo 6-7 giorni che mi passa l'incazzatura anche 8 e mi vengono a chiedere ebbene come lo sostituiamo Erlich è il nome mi viene da dire uno dei nomi o il nome quanto provoca Bargigia perché che cosa ha scritto Bargigia in caso non rinnovasse Milenkovic cosa faresti cessione o scadenza così su due piedi io farei scadenza perché io ci sono anche affezionato capito c'è un giocatore che non dico che seguo da quando sono bambino però è con noi da tanti anni è forte io c'andrei a scadenza sentite cosa vi dico anche perché se non rinnova ok magari ci fai quanto 15 milioni 20 milioni se sei bravo ma se sanno che è in scadenza non è che ti offre ti offrono le cifrone capito non è che ti offrono non è che ti offrono le big money non è che ti offrono le big cifre quindi io me lo trago fino a scadenza sì devo essere onesto alla fine secondo te rimane Torreira ma guarda Batti voglio essere positivo voglio essere positivo anche perché ragazzi guardate che secondo me avete visto commisso cosa ha detto in conferenza ha detto cioè ha storto un po' il naso quando ha parlato della della campagna social un po' che c'è stata sul nome intanto siamo a 284 mi piace lasciate like che arriviamo a 300 e poi andiamo avanti dicevo commisso ha storto un po' il naso citando questa specie di campagna social che era stata fatta perché loro l'occhio a quelle cose ce l'hanno non magari tanto commisso però Barone mi sembra uno che ha queste cose qua è sensibile Barone è uno che di quel che pensa il tifo gliene frega a mio avviso infatti non so come abbia recepito anche gli striscioni che sono stati appesi fuori e quindi sai vedere che sui social l'attenzione è così alta vedere che se non lo riscatti magari la piazza va in subbuglio e inizi già malissimo io penso che stiano facendo e faranno di tutto comunque per riscattarlo perché c'è stata veramente non dico una sollevazione popolare però ragazzi è stato molto netto il pubblico è fiorentino è stato molto netto il pubblico fiorentino da quel punto di vista Bargigia ha scritto che la Roma festeggia la conference come se fosse la coppa del mondo e inoltre hanno fallito perché seste in un campionato mediocre magari l'ha detto in dei toni canzonatori in dei toni eccessivi però secondo me sul merito non ha torto poi sui festeggiamenti vi devo dire la verità non ho visto ste folle oceaniche o sta cosa diciamo che pensavo peggio conoscendoli però che il tifo festeggi ci sta per carità di Dio non è quello il problema se andiamo invece sui dati tecnici sulle opinioni tecniche che lui ha dato secondo me non ha tutti i torti cioè vi ripeto io al campionato della Roma ho dato sei più la serie A per me non è stata non è stata un granché ma anche al di là dei risultati che pure non sono stati un granché in primis loro perché la Roma si è qualificata alle coppe l'ultima giornata ma anche dal punto di vista del gioco capito cioè se sto campionato qua lo avesse fatto una Roma che nel corso della stagione mi ha messo in campo magari un modo diverso di giocare che magari attualmente non ti dà dei frutti però per l'anno prossimo e per gli anni a venire so che un qualcosa mi semina posso anche portare pazienza si può anche dire vabbè è un primo anno però stai costruendo invece mi viene da chiedere non lo so a livello di gioco di manovra di valorizzazione cosa resterà l'anno prossimo cioè da da cosa partirà la Roma capito mi viene difficile capirlo quindi non è solo cioè se si parla di delusione non è solo a livello di risultati ok è più è più quasi a livello di gioco di seminato di valorizzazione mettiamola così io la penso così io la penso così Loris Barichelli ciao carissimo ma un Pessina che nel centrocampo viola porterebbe un po' di qualità dato che Castro starà fuori un bel po' allora Pessina ha fatto un campionato abbastanza osceno ragazzi eh perché Pessina quest'anno con l'Atalanta è stato tra i peggiori come tifosi dell'Atalanta potranno confermarvi però sai andare a prendere un giocatore dopo un'annata deludente può anche essere una strategia intelligente perché lo paghi meno rispetto a quando è sulla cresta dell'onda però se tu ci credi magari lo riporti ai livelli precedenti diciamo che lo sto tenendo d'occhio per un'altra squadra anche lui per la Fiorentina andrei su altro vabbè ragazzi ma al di là di tutto poi che con la Roma ci sia una rivalità dello sfottò ci sta per carità di Dio infatti ieri quando quando a Passione Fiorentina il ragazzo ha tirato fuori la bandiera della Roma quello ci sta quello è storico e lo sfottò è un'altra cosa poi però se si fa una valutazione serena della stagione io penso questo poi non è che serve andare a insultare cose un conto lo sfottò che ci sta è nostro e viene fatto un conto della valutazione oggettiva della stagione tutto qua Daniele Fraschini ciao vedete quando i tifosi della Fiorentina fanno veramente delle domande intelligenti belle a cui rispondono ciao Ale ma un vessino che lascia l'Inter e farlo tornare da noi per me sarebbe un colpaccio ci stavo pensando prima seduto sul letto anche lì ci sarebbero dei nomi migliori più magari freschi più fresh più fresh più fresh più fresh più fresh ok nomi un po' più fresh ma non ci sputerei sopra non ci sputerei sopra diciamo che ha fatto un anno in cui praticamente non ha mai giocato lo vuole Sarri alla Lazio che penso sia la destinazione più probabile di vessino penso sia la Lazio da Sarri diciamo che non è che mi strapperei i capelli per prenderlo glielo lascerei dovesse tornare a Firenze è uno dei pochi ritorni sui quali non sputerei sopra mettiamola così credi alla smentita di commisso circa la volontà di vendere a CF o pensi che sotto sotto stia trattando con qualcuno secondo me sono tanti i segnali di vendita non ho niente in mano per pensare che la Fiorentina stia venendo ceduta onestamente no io io penso che attualmente non ci sia niente penso che attualmente non ci stia niente sì Sarri vorrebbe vessino perché l'ha avuto all'Empoli sostanzialmente no quindi lui l'ha avuto a quei tempi e lo rivorebbe alla Lazio alla Lazio per me sarebbe un acquisto molto più intelligente che per noi perché comunque andrebbe non credo che giocherebbe titolarissimo specie se resta Milinkovic Savic Luis Alberto così però è uno che magari visto che conosce Sarri ha tutto per inserirsi bene è uno che anche nella piazza laziale vedo bene ed è uno che magari ti può essere un'utile alternativa quando vai in Europa League quando fai il tuo gironcino in settimana diciamo che è un nome col quale a Roma sponda Lazio inizieresti a costruire una panchina di livello da noi da noi sarebbe anche sarebbe una gestione un po' complessa perché per quelli che sono i nostri parametri di stipendio penso che avrebbe con uno stipendio bello altino e non è neanche detto che tu riesca a darglielo e nel momento in cui viene a Firenze si porterebbe dietro un peso magari anche economico e una nomea che è difficile da gestire vedendolo come una riserva capito quindi non ci sputerei sopra è un giocatore che mi piaceva quando era da noi e che mi è sempre piaciuto però anche lì ci possono essere delle scelte migliori ecco mettiamola così ieri sera mi sono visto un'altra pietra miliare intanto c'è William mi sono visto un'altra pietra miliare del fare calcio che è il video nel quale Buffon ha detto che l'arbitro ha i fruttini al posto del cuore ve lo ricordate quando la Juve perse a Madrid 3 a 1 no vinse a Madrid 3 a 1 con il rigore di Oliver alla fine e uscì fuori dalla coppa con Buffon che si incazzò che poi rigore era nettissimo tra l'altro rigore nettissimo con Benatia che salta sulla schiena a chi era a Benzema non mi ricordo a giocare a basket e hanno fatto il disastro no ma non ci si può permettere di rovinare una partita di questo livello e devi avere la sensibilità per non fischiare un rigore che cazzo vuol dire porca troia ma se è rigore è rigore anche quella è una scena madre veramente di livelli e con la telecronaca di Repice che pure anche lui ci ha buttato sopra fiumi di retorica su quella partita mamma mia e tu c'hai un bidone della spazzatura in questo rigore nettissimo mamma mia solo in Italia certe cose devi stare con tua moglie in tribuna con i figli a mangiare le patatine a bere i fruttini a bere i fruttini Palermo Padova la finale dovrebbe essere Palermo Padova e il Padova è più forte del Palermo come squadra come giocatori proprio intendo anche se il Palermo ha Brunori che è un ottimo attaccante Brunori Sass e poi soprattutto il Palermo può contare su un fattore entusiasmo che è molto forte per il cambio di proprietà per Baldini per il percorso fatto è anche una piazza importante quindi io credo e spero per certi versi anche che la finale sia Padova Palermo e e lì poi io ovviamente spero che vada sul Padova per appartenenza regionale io oltretutto sono anche nato in provincia di Padova e quindi lì ti ferò Padova diciamo che se dovesse andare il Palermo mi spiacerebbe per il Padova però sarei anche contento di vedere una piazza così importante in Serie B però intanto cauteliamoci con una finale che spero sia Palermo Padova e poi lì ovviamente spero che salga il Padova non dovesse salire il Padova sale il Palermo ce lo faremo andare bene Catanzaro è gemellato con la Fiorentina oltretutto sì sì e l'altra cos'è il Ferah no il Ferah il Pissalò qual è l'altra squadra che è in gioco una una squadra non di chissà quale mi pare l'Everage dannazione ci volevo la Triestina spero per il prossimo anno sì anch'io Triestina Padova queste squadre speravo il Padova di Dezzi peccato che il Venezia l'ha venduto era meglio di Tesman oh bravo Acra finalmente un tifoso del Venezia che dice quello che anch'io credo Dezzi non è non è da C non è da B come piedi è visione di gioco Dezzi è da serie A Acra non so se tu c'eri l'anno scorso quando seguivamo i playoff ma ti ricordi non solo nella serie B ma anche solo nei playoff quanta cazzo di qualità di gestione della palla di intelligenza tattica dava Dezzi quando entrava in campo col Venezia oh bravo anche secondo me e la cosa che fa ridere ragazzi la cosa sulla quale voglio farvi riflettere è che Dezzi è andato al Padova in serie C perché a dire del Marchiole e di altri prendeva uno stipendio troppo alto per il Venezia lui prende tipo 600 mila euro una cosa del 6-700 mila una cosa del genere e l'hanno dato in serie C perché per i parametri del Venezia lo stipendio era difficile da gestire ma al posto di fare lo scambio Cuamè-Gollini uno scambio Cuamè-Carnesecchi farebbe così schifo la squadra qui si offre è la stessa ma il problema è che Carnesecchi per cioè già secondo me scambiare Cuamè-Carnesecchi se la devi fare è meglio che ti sbrighi a farla prima che cambiano idee diciamo che farsi dare Carnesecchi a gratis in cambio del cartellino di Cuamè cioè lì saremmo veramente a una roba di dire tutto bene tutto bene a Bergamo cioè perché no vabbè Carnesecchi giustamente è un grande prospetto se se lo vuoi lo devi pagare io penso che Carnesecchi l'Atalanta A non è detto che lo voglia cedere B secondo me se lo cede vuole vuole cash Carnesecchi sarebbe stata la mia prima scelta però vediamo se lo cedono a quanti soldi lo cedono però ripeto onestamente se hai se hai sta decisione totale che c'hai voglia di cambiare portiere se credi che Terracciano non sia adatto se c'hai sta smania di cambiare portiere nel momento in cui prendi i gollini a me va bene non è non è male l'idea di andare a prendere i gollini è un buon portiere un geyser ci sta ci sta vi porto giù ragazzi vi porto giù che vado a farmi una paglia voi intanto manete con me è un trapper esatto sì gollini è un trapper ci sta non ci sputo sopra non ci sputo sopra tra l'altro tra un po' mi dovrò tra un po' ragazzi preparerò anche la postazione la postazione Wyoming perché siamo estate andiamo no quindi sarà ora di preparare anche adesso adesso vi ci porto però tra un po' faremo anche le live direttamente qua fuori eh faremo le live anche direttamente qua fuori tanto piscio va bene piscio spero che Dirmeth sia all'ascolto che lui gradisce questi contenuti qua io che piscio sta piovendo sì bene ah che bella orinata Moonlight orinata ah sentite il rumore lo sentite ecco sentite il rumore del piscio vi piace ASMR piscio ecco abbiamo quasi finito ok una bella sgrullata eh una bella sgrullata al pipinello ok e tra poco sono da voi ecco qua allora bene fatto e adesso ci fumiamo una paglia ah questo posto eh cazzo è già estate ragazzi estate serenata con serenata con allora dov'è qua non c'è il cuscino vabbè mi siedo sul legno ah bufona ha parlato bene della fiorentina di Terracciano sì ma lui ha sempre avuto buone parole per noi eh ma infatti ragazzi io vi faccio riflettere su una cosa che farà storcere farà storcere il naso magari a qualcuno però va anche detta guardate guardate che la rivalità tra fiorentina e juventus esiste ovviamente a livello di tifo a livello di piazze e di tifoseria ma guardate che i rapporti tra società e a volte anche tra giocatori negli ultimi anni anche a livello di calciomercato purtroppo sono sempre stati ottimi vi ricorderete quando per esempio la juve vinse a londra col tottenham che era appena successa quella cosa di Astori quel che disse Chiellini i fiori sotto la curva gli affari di mercato fatti anche ultimamente i rapporti tra commisso anche l'apo elkan che si sono visti o quando c'erano i della valle l'Ele Angel esatto Matteo Rossola bravo no per carità gemellaggio no gemellaggio no perché anche vi ripeto a livello di tifo invece i rapporti sono comunque sempre tesi e poco cordiali a livello societario invece a livello a un livello superiore mettiamola così non sempre sono state cose ingestibili anzi anche la scansata nell'ultima partita esatto Doge Vamangitucca Fiorentina no Vamangitucca ve lo metto in un'altra in un'altra squadra anche con la Roma sono tesi sì le maggiori rivalità della Fiorentina sono con con la Juve e le Romane ma soprattutto la io sapevo soprattutto la Roma poi in realtà quando sono andato a Firenze diversi tifosi mi hanno detto no guarda che anche con la Lazio i rapporti non sono buoni io sapevo Juventus e Roma soprattutto poi se c'è anche la Lazio non lo so a me la Lazio non mi sta antipatica devo devo dirvi la verità cioè diciamo che generalmente tra Roma generalmente tra negli anni di Fonseca i due anni di Fonseca che mi stava simpatico tra Roma e Lazio ho sempre preferito la Lazio ecco mettiamola così ho sempre stato più a Roma diciamo ho sempre preferito la Lazio e la Roma tradizionalmente Fonseca esatto bravo Bruce sì l'Atalanta però è più recente la rivalità con l'Atalanta cioè adesso con tutto rispetto storicamente l'Atalanta con noi non ha mai condiviso un cazzo cioè non è non è una rivalità di classifica perché l'Atalanta fino a 4-5 anni fa giocava per non andare in Serie B spesso neanche riuscendoci negli ultimi anni l'Atalanta è diventata una squadra importante di un certo peso ha preso anche un po' il nostro posto e i rapporti si sono restesi ma non è una rivalità storica con l'Atalanta io per dirvi non sento neanche le più con tutto rispetto ma io le partite contro il Napoli non le non le non riesco a considerarle dei big match cioè per esempio anche quando abbiamo vinto col Napoli non ho avuto le stesse vibes che ho quando per esempio vinci contro la Juve o vinci contro il Milan o vinci contro l'Inter o vinci contro la Roma anzi eh no ecco con la Roma è diverso anche lì perché c'è una rivalità col Napoli è una vittoria con una squadra che che non dico che considero come noi però a livello di dimensione storica anche sì non è non è una partita che dico minchia abbiamo vinto contro il Napoli caroselli festeggio che cazzo di weekend che stiamo vivendo no no cioè oggettivamente è una squadra forte attualmente vinci contro una squadra che in questi anni è più forte di te però non è che mi faccio i rasponi hai capito oltretutto abbiamo vinto gli stessi trofei esatto ciao Alessandro da Mico lascia Tudor pura il primo dispiace il secondo gratitudine e rispetto ma Ciofi se viene bene esatto Michele la penso come te io già se arriva Ciofi io già sono molto curioso e non vedo l'ora di vedere Ciofi al Verona non non si versano lacrime per Tudor onestamente da Mico va all'Atalanta meritato perché è un signor di esse Sartori va via probabilmente va al Bologna da Mico va a sostituirlo a Bergamo e a Verona non si sa parlano di Marocco il Pisa in Serie A ti gaserebbe allora ragazzi io so che qui voi essendo toscani giustamente vorreste il derby vorreste il derby no vorreste il derby giustamente vorreste il derby però vi dico la verità che vorrei vedere sto Monza in Serie A vi sono onesto se devo scegliere tra le due scelgo Monza anche se comunque col 2-1 andare a difendere un 2-1 all'arena Garibaldi non è semplice no non solo un Pisa Fiorentina gaserebbe gaserebbe anche un Pisa Udinese un Pisa Spezia ci sarebbero partite interessanti però anche sto Monza in Serie A avrebbe il suo perché insomma vorrei vederlo in azione insomma se ha veramente sta potenza di fuoco barbara berlusconiana che emerge esatto e poi onestamente è meglio toglierselo dalla B come dice giustamente Dirmet in ottica anche Venezia così quindi vi capisco e capisco chi vuole il derby per carità questo è un canale sulla Fiorentina di Fiorentini e vi capisco perfettamente però il Monza in Serie A lo vorrei vedere anche perché poi ultimamente a parte la Salernitano a sto anno che si è un po' che si è un po' risvegliata nel finale spesso vedi squadre venire su dalla Serie B e tornano giù dopo un anno ha rotto i coglioni questa storia quindi sarebbe anche ora di avere una squadra che viene su dalla Serie B e che ti mette in campo una progettualità magari di un certo tipo le puoi mettere in ordine di prestigio e gerarchia Fiorentina Lazio Napoli Roma e Torino allora Roma Fiorentina Roma Fiorentina Lazio Napoli e Torino ora uno mi dirà ma il Torino ha più scudetti di tutte queste giusto però il Torino ha più alti e bassi come il Bologna per esempio sono piazze che hanno anche il Genoa per esempio ha nove scudetti quindi mangerebbe in testa a tutti in teoria per carità però sono piazze che hanno fatto anche tanto anonimato e tanta Serie B meno il Toro però io te le metto così ripeto seguo la classifica all time della Serie A Roma Fiorentina Lazio Napoli Torino anche la Pro Vercelli esatto cioè non è una cosa che va subito detta sugli scudetti esatto quest'anno Empoli e Salernitana hanno sorpreso ma l'Empoli non mi ha sorpreso neanche più di tanto devo dire perché poi l'Empoli l'Empoli non è una squadra che viene in Aiva in Bilano dopo l'Empoli comunque se uno guarda gli ultimi vent'anni ha lanciato signori allenatori e Sarri l'ha lanciato l'Empoli Sarri è stato l'Empoli a prenderlo un po' dall'anonimato va detto perché Sarri si stava un po' perdendo si stava un po' perdendo in categorie basse l'Empoli l'Empoli l'ha preso l'ha portato in auge e poi poi Spalletti mettici Giampaolo che anche lui l'ha rivitalizzato un attimo per quanto uno Giampaolo possa piacere o non piacere però Empoli è una piazza dove il calcio si può fare si sa fare si sa fare quindi l'Empoli sorprende fino a lì diciamo Catto situazione Torreira sembra migliorare un po' come pensi finirà sono fiducioso anch'io spero che si possa andare verso una soluzione buona e positiva ma se lo giro così come va ok bene Dionisi si relativamente perché Dionisi comunque si comunque puoi metterci anche Dionisi tra gli allenatori lanciati sicuramente sicuramente anche Dionisi no no ma Empoli vi ripeto è una piazza che il calcio lo sa fare pensi che Javorcic possa fare bene a Venezia ma guarda Akraf bisogna vedere se sarà lui l'allenatore intanto perché da quel che mi diceva comunque Davide Marchiol ad oggi non è deciso ancora niente dovessero scegliere Javorcic beh ragazzi uno che viene in serie B con uno che viene in serie B con il Sud Tirol subendo mi pare una roba tipo nove o undici gol in tutto un campionato tanto scemo non deve essere quindi perché no perché no perché dire no perché dire no chi vorresti come punta come mezzala e come torzino destro per la Fiorentina è caro Matteo tu mi stai chiedendo tu Matteo mi stai chiedendo di spoilerarti il cattomercato lunedì lo saprete lunedì uscirà il cattomercato e vedrete tutto secondo te del Venezia quali giocatori meritano la serie A allora una bella domanda una bella domanda ce ne so ce ne sono diversi a dire il vero perché io per esempio ho fatto come vi dicevo prima ho fatto il foglio con le pontatine con i giocatori che che seguirò e terrò d'occhio e del Venezia ce ne sono diversi vi spoilerò già che la squadra che ha più giocatori addocchiati dal sottoscritto poi voi sapete che io sono un amante della Bundesliga quindi però è l'Ipsia l'Ipsia è la squadra che ha più giocatori pontatinati da me nel mio foglio comunque anche il Venezia ne ha diversi diversi insomma qualcuno ne ha perché Aps per me è uno che come attenzione che Aps l'ho pontatinato nel cattomercato di una squadra importante della serie A come riserva quindi attenzione Aps secondo me è uno che in serie A ci potrebbe stare Busio è uno che in certi ambienti potrebbe fare bene Cuisan se è uno che se trova la squadra che lo valorizza ti può diventare uno che fa vedere quello che magari a Venezia sto anno non è stato capace di far vedere Enri va via vabbè Occhereche è uno che tutto sommato in certi ambienti in certi spazi potrebbe anche garantirsi una buona venuta Aramu è uno che in serie A ci può stare Lezzerini se stesse bene è un portiere che a me è sempre piaciuto se stesse bene Cercaroni se una squadra da salvezza cerca un difensore di categoria onesto non è uno scandalo che resta in serie A Caldara è uno che un'altra esperienza te la può fare Ebuei è un giovane che non è una bestemmia a vedere in serie A è comunque nazionale nigeriano Ulman sono convinto che sia un giocatore che in certe piazze può anche fare bene capito ce ne sono diversi il Venezia purtroppo se tu il Venezia lo valuti individualmente non ha dei brutti giocatori cioè a livello individuale ci sono dei giocatori interessanti a Venezia il problema è l'assemblage il problema è l'assemblage che non c'è non c'è un senso capito nell'assemblato così un altro giocatore per esempio che sotto Son Chin non è che mi ha sorpreso ma che sotto Son Chin ha fatto bene è Perez ragazzi non so se Akraf o altri tifosi del Venezia bravo anche Cernigoy e Johnson William assolutamente assolutamente dicevo un giocatore che mi ha molto ben impressionato sotto Son Chin è Perez guardate che Perez da che è arrivato Son Chin a parte che è sempre stato titolare ma poi ha fatto anche delle ottime partite personalità cazzimma grinta ma infatti anche su Zanetti ragazzi ecco mio papà per esempio che ovviamente anche lui segue il Venezia perché siamo tutti e due della provincia ovviamente no mio papà per esempio su Zanetti era molto più negativo di me in che senso nel senso che lui ha sempre detto che con Zanetti vedeva un Venezia molto con non tanta cazzimma un Venezia spento un Venezia un po' stile minestrone cattedratico così e lui non è che assolvesse Zanetti da tutte le colpe per esempio e io invece gli dicevo guarda che in realtà per come hanno costruito la squadra secondo me non è che cioè non è che faccia i miracoli capito non è che puoi chiedergli un miracolo però c'è da dire che effettivamente con Soncini se siamo onesti quantomeno si è visto un Venezia un po' più un po' più tignoso un po' più anche difensivo magari ma più più grintoso più concentrato più marcigno soprattutto ecco la parola giusta è arcigno questo non per dire che il Venezia è andato in B per colpa di Zanetti assolutamente diciamo che la verità sta un po' nel guado in che senso che per me il Venezia ha sbagliato mercato perché Zanetti tu avevi un allenatore in stile italiano cioè che in B era stato forse il principale protagonista e che meritava venendo in Serie A che gli si costruisse una squadra secondo i suoi dettami di gioco che gli desse una mano dal punto di vista dell'esperienza e che fosse costruita in modo un po' più razionale questo non toglie magari che con la squadra che è costruito magari un allenatore un po' più difensivo chiamato prima fosse capace di giocarsi qualche carta in più questo ci può stare ma non sarebbe stato giusto secondo me non sarebbe stato giusto perché comunque Zanetti Zanetti è un allenatore che meritava per me che gli venisse costruita un'altra squadra mettiamola così Zanetti per me meritava che che tu gli facessi un Venezia capace di valorizzare anche il suo essere allenatore le sue idee di gioco invece hai costruito sta masnada di giovani da tutte le parti del mondo che non ti salvi con squadre così non ti salvi con squadre così ma ve lo dissi subito purtroppo no per me non ha tutte le colpe Zanetti non ha non ha quasi colpe non ha non è giusto darle colpe per me le colpe se di colpe vogliamo parlare posto che comunque ragazzi vi dico anche una cosa detta tra i denti cioè io sono rimasto anche stupito dalla dalla severità con la quale i veneziani hanno giudicato l'operato della società Venezia perché io vedo tante tifoserie che sono non voglio usare il termine narcotizzate però vedi tante tifoserie anche di grandi squadre o medio grandi che spesso vedi fare le cose un po' alla cazzo di cane o vedi delle gestionalità non all'altezza del loro peso e la tifoseria comunque è molto buonista si fa andare bene tutto ha sempre una vision positiva a Venezia i tifosi quest'anno hanno sono stati molto severi basta vedere gli striscioni appesi la contestazione sotto la sede e uno dice beh cazzo però dopo vent'anni tra fallimenti serie di retrocessioni cose cose di sto tipo uno si aspetta anche magari un po' più di bontà un po' più di invece sono stati molto molto duri tra virgolette i tifosi veneziani ma anche giustamente magari ecco io penso comunque che sta società qui abbia delle cose molto buone perché in ogni caso l'anno scorso io non me lo dimentico io non sono tra quelli che che giudica solo in base all'ultima annata a me io ho sempre una memoria storica come vi dicevo per i della valle al tempo l'anno scorso io non me lo dimentico gli anni prima comunque è una società che cazzo ti ha riportato in serie A ragazzi che non è semplice però quest'anno male male le scelte esatto i soldi li ha spesi anche speso povero a me niederauer vi dico la verità fa anche un po' peccato perché lo vedi che è una brava persona è uno comunque di compagnia che ci tiene non mi sembra uno stronzo che che è chiuso che se i tifosi gli rompono le palle manda lettere a destra manca mi sembra un compagnone capito però c'è da dire che sta filosofia qui l'ha anche incarnata lui per certi versi no perché alla fine le decisioni sono sempre quelle apicali e sto anno qui male perché con la serie A che c'era ripeto non hai neanche fatto una serie A nella quale dovevi fare i miracoli per salvarti avete visto la salernitana cazzo era ultima era ultimissima ha fatto 4-5 partite buone si è salvata a 31 punti sei venuto in serie A dopo 20 anni spendendo meno facendo meno fatica facendo meno scelte rompendoti meno i coglioni eri veramente capace che ti salvavi con le palle a mollo ragazzi in tutti i sensi visto che parliamo di Venezia invece hai fatto sta policy qui con 300.000 giocatori gente che poi ad una certa neanche sai che fine ha fatto per esempio Sigurdsson l'acquisto di Sigurdsson Schnegg preso e ceduto al Crotone in prestito a metà stagione Eimans io faccio fatica a ricordarmeli tutti i giocatori che ha preso il Venezia veramente ecco un altro giocatore che sicuramente potrebbe rimanere in serie A e anche a buonissimi livelli è Ampadu Ampadu è stato tra è stato tra i pochi acquisti indovinati ha fatto una stagione molto importante Ampadu Ampadu è molto buono Insame 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 era un buonissimo acquisto sulla carta o meglio sarebbe stato un grande acquisto Insame il problema qual è? che sarebbe stato un buonissimo acquisto nel caso in cui tutti fossi salvato perché lui è venuto a Venezia dopo un infortunio molto grave e non era in condizione di giocare subito ok? tra l'altro il Venezia a gennaio il Venezia a gennaio il Venezia a gennaio vi ricorderete voleva Alario il Venezia fece una missione in Germania perché voleva portare Alario a Venezia quello del Bayer Leverkusen il problema è che poi non ce l'hanno fatta forse il giocatore non era neanche convinto e via dicendo però Insame se tu quest'anno riuscivi a salvarti lo riscattavi e il costo era anche assolutamente abbordabile e di convenienza gli facevi fare un ritiro lo rimettevi a regime e l'anno prossimo ti presentavi a inizio stagione con un Insame in forma con un Insame ben messo quello era un attaccante che a Venezia ci poteva stare alla grande il problema è che non ti sei salvato in B non ci viene e tornerà probabilmente a casa Setti ha detto che il Verona si è salvato non spendendo una lira a differenza del Venezia che ne ha spesi 30 c'ha ragione a me spiace poi che ci sia sta rivalità tra piazze del Veneto così e via dicendo anche tra Verona Venezia Verona Udinese però c'ha ragione poco da fare c'ha ragione ma c'ha ragione anche Tudor quando dice che dei giocatori del Sassuolo si parla sempre un sacco poi vai a vedere il Verona gli è arrivato sopra c'ha perfettamente ragione ma vi ripeto sono il primo a dirvi che spendendo meno comprando meno giocatori rompendoti meno i coglioni facevi meglio purtroppo con un altro allenatore pensi che si sarebbe potuto salvare il Venezia guarda Bacoder ho risposto poco fa non credo non credo perché comunque per come era costruita la squadra fai anche fatica a capire che tipo di allenatore serve per gestire una squadra del genere con un sacco di sconosciuti gente che viene da una masnada di campionati l'unico che mi può venire in mente è un Ranieri Dantan che chiami e con un po' di sua esperienza internazionale gestionalità così ti tira fuori il coniglio dal cilindro e ti fa l'impresa salvezza ma per il resto no no Tudor Pierpaolo Saccone ciao ad oggi Tudor in Turchia e Cioffio al Verona che ne pensi ne ho parlato prima mi va da Dio non vedo l'ora di vederlo Cioffio al Verona grande scelta sono contento mi spiace un po' per l'Udinese per come è andata perché credo che Cioffio all'Udinese avrebbe potuto continuare a fare bene però questa improvvisa chiamata dal dirimpettaio mi gasa mi piace ci sta sono molto curioso di 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 vedere Cioffi in azione molto curioso di vedere Cioffi in azione Alessandro hai visto i due acquisti sconosciuti del Venezia Kofod Andersen si è uno polaco io ho sto modo di far mercato veramente non la cosa che anche poi fai anche fatica di medesimarti nella squadra capito fai anche fatica allora cioè guardate che per certi versi veramente il Venezia dello scorso per come è strutturata la serie A per quello che ti può venire richiesto se cerchi la salvezza il Venezia dello scorso anno era più adatto di quello di questo perché ci metto forte Dezzi Malè Mazzocchi è capace che se tu è capace che se tu mantenevi la squadra con la quale sei venuta in serie A facevi più punti Dezzi è finito in Cip per una questione di stipendio paradossalmente lo stipendio era troppo alto per il Venezia e diciamo ha fatto delle valutazioni sul costo di Dezzi annuale il Venezia un costo eccessivo per il ruolo che lui aveva e ha preferito darlo a una squadra di C il Padua che per me è un giocatore non è da C non è da B è da A a livello di piedi di visione di intelligenza tattica esposito bravi sebastiano esposito un altro che io per esempio guardate che sebastiano esposito l'anno scorso a Venezia lui arrivò a gennaio fece bene fece anche dei gol importanti era un giocatore per me che in Serie A potevi fartelo ridare in prestito c'è anche Cordoba in società perché non richiamare esposito per me esposito col Venezia in Serie A avrebbe continuato la sua crescita esatto il gol col Monza ma non solo mi pare che segnò anche un gol col Venezia in una partita nella quale poi tu la vinsi anche grazie ad uno dei suoi gol quindi io esposito in Serie A al Venezia me lo sarei tenuto molto volentieri molto volentieri anche perché il Venezia se notate aveva un gruppo nello spogliatoio di Campani Forte Mazzocchi lo stesso esposito che avevano creato uno zoccolo duro che era fondamentale nello spogliatoio di Mariano mi pare anche e si è andato a sgretolarlo ma guarda che a conti fatti anche di Mariano al posto dei 400 esterni che poi hai preso poteva darti più utilità vacca esatto bravo vacca bravi ecco anche vacca vacca se stesse bene vacca se fisicamente fosse integro ma altro che Serie A vacca potrebbe giocare tranquillamente in un sassuolo in un udinese anche in un verona a livello di piedi vacca in Serie A ci può stare tranquillamente è che purtroppo fisicamente ormai è un po' un fuscello cioè vedete fa 20 minuti 30 poi lo devi sostituire però a livello di piedi vacca sarebbe forse dopo Aramu ma secondo me a livello di piedi anche più di Aramu per me tecnicamente vacca è il miglior giocatore del Venezia a livello proprio di piedi di tecnica vacca un buonissimo giocatore no Ciccaroni vi devo dire la verità non mi entusiasma ecco lì anche al Venezia è mancato se bisogna parlare di ruoli è mancato tanto un leader difensivo per me l'ha detto anche se voi ascoltate le live del buon Pedro Mariani ne ha parlato anche lui ma ancora io l'ho tempo le diceva ma cazzo ma non c'è uno che chiami non c'è uno che urli non c'è uno che dia indicazioni non c'è uno che dica marca questo vai su quello vai su quella Venezia per me è un leader difensivo è mancato molto infatti quest'estate Ponte dissi Becao però Becao diciamo che non è non era semplice portarlo via Becao non era semplice portarlo via scusate un attimo arrivo subito mi era sembrato di sentire uno che mi chiamava ma mi ero sbagliato sarà stata una bestia comunque dicevo un leader difensivo per me è mancato poteva essere un Becao un Nui Tink un tuo Pablo Marie anche se Marie è una roba diversa però uno che ti pigli un difensore capito che conosce la categoria che c'ha carattere che c'ha grinta che la trasmette anche i compagni che gli dice guardate che in Serie A si difende così guarda che mi devi andare su quello mi devi andare su quell'altro un chiellini per farvi capire e la coppia a caldare a ceccaroni per me era mal assortita infatti poi a metà stagione sei stato appeso alla suggestione di Modolo che doveva tornare Modolo cioè sei arrivato a sentire la mancanza di Modolo sì un Tonelli gente così sì Wittmer ma Wittmer è più un esterno Daniele Odriozola è più forte di Calabria no per me no per me no a me se mi dicono a Firenze vorresti Calabria Odriozola ti dico Calabria Calabria è più solido è più o meglio il Calabria che ho visto nell'ultimo anno e mezzo ovviamente se oggi mi dicono chi vuoi a Firenze Calabria Odriozola oddio 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 va anche detto che Calabria è più difensivo che offensivo quindi magari con italiano è capace che un Odriozola ti sia più utile ti renda di più però se devo valutare i due giocatori dal punto di vista tecnico io preferisco Calabria guarda che non va sottovalutato Calabria guarda che se voi vedete se voi vedete l'ultima stagione del Milan Calabria è un giocatore che a livello di equilibrio non si butta via non si butta via fatta per Parisic al Tottenham mi spiace era un giocatore che io guardavo volentieri era un giocatore che io guardavo volentieri ed era un peso aggiunto secondo me feica ok vabbè comunque in ogni caso se succede vai ultimi dieci minuti ragazzi scatenatevi ultimi dieci minuti ultimi dieci minuti no Aps vi ripeto Aps l'ho messo ce l'ho in testa come riserva in una squadra che ha delle caratteristiche di gioco chiamiamole così che lo possono esaltare e vedrete che vi piacerà la mia puntatina ma Aslani ragazzi no allora Perisic non è detto che faccia panchina a Son attenzione perché ecco visto che si facevano i confronti tra Conte tra Conte e Inzaghi Conte che tutti gli dicevano sei un integralista del 3-5-2 è andato al Tottenham e giustamente fa il 3-4-2-1 Inzaghi avrebbe dovuto farlo all'Inter non l'ha fatto comunque detto questo Perisic può giocare anche tutta fascia Perisic al Tottenham non è che gioca dietro la punta può giocare anche come quarto anzi credo che giocherà proprio come quarto quindi giocherà al posto di chi? di Emerson Royal o di quell'altro che c'è dall'altra parte comunque dicevo di Aslani ma stiamoci attenti ragazzi perché dipende poi sempre a che costo te lo propongono dipende capito non vorrei che fossero quei giocatori che ti fanno un'annata buona poi lo porti da un'altra parte e si e si squaglia per me cioè gli ho visto fare troppo poco per dire cazzo ci andrei ad occhi chiusi cioè in tante partite non ha neanche giocato titolare Aslani all'Empoli quindi mi sembra un po' inflazionato mi sembra un po' come nome mi sembra cioè rischi magari di andare adesso dall'Empoli a fare una super offerta lo paghi un sacco di soldi parlo ovviamente in ottica fiorentina poi se c'è una squadra magari come il Milan come l'Inter la Juve che dice ballano 10 milioni li butto me lo prendo ci può anche stare però ci andrei cauto ecco ci andrei un po' cauto ma anche Casale da tifoso del Verona è stato molto pompato dai guarda lì sono meno d'accordo perché Casale comunque c'ha una struttura fisica c'ha un un temperamento c'ha un modo di stare in campo che vedi che può avere delle caratteristiche di crescita anche perché diciamo il ruolo del difensore non è quello del regista cioè è un ruolo un po' più spartano diciamo un ruolo un po' più è diverso Casale per me effettivamente è un giovane che può essere interessante anche altare del Cagliari è anche altare del Cagliari è un buon giovane su Aslani su questi giocatori qua c'andrei come per esempio vi ricordate di Vigliar quello che era la Roma no? Vigliar cosa non si diceva su Vigliar uno o due anni fa? minchia ricorda Zidane ha una tecnica fuori dal comune ha un piede raffinatissimo c'era gente che parlava di 40 milioni di euro per Vigliar fa fatica a giocare nel Getafe ragazzi fa fatica a giocare nel Getafe quindi sono ruoli dove servono un mix di cose e serve soprattutto secondo me un po' di più tempo e continuità per farsi un'idea concreta su un giocatore specie se poi devono andarci a spendere vagonate di milioni ma quello è col no guarda ecco io guardate se c'è da attaccare Mourinho sul gioco su Vigliar per me non ha torto guardate lo dico la differenza di trattamento che Mourinho ha messo in piedi tra Vigliar e Cristante e Migasa perché io sono d'accordo per me Cristante si è meritato la considerazione e la grande opera di valorizzazione che Mourinho ha fatto su di lui su Vigliar invece sono d'accordo con Mourinho per me per me è un giocatore che per carità avrà dell'ottima piedistica avrà della qualità ma ragazzi non è che un giocatore si valuta solo in base ai piedi perché allora richiamiamo a giocare Ronaldinho avete visto anche Nani per esempio citando sempre Venezia Nani è un giocatore che a livello di piedi probabilmente mangia in testa a tre quarti di serie A ma se fisicamente hai dei limiti se sei spompato se ti mangiano in testa cioè voi per esempio mettete Vigliar a centrocampo no titolare andate ad affrontare l'Udinese porca puttana e metti un wall a San Marcarlo e poi vediamo dove finisce il poveretto no e la serie A piace o non piace il calcio di oggi è anche quello poi anche Vigliar a livello di a livello di cazzima a livello di a livello di proprio devastanza così di personalità di continuità non è che anche con con Fonseca facesse fuoco e fiamme dal culo eh Vigliar fece un'ottima prima parte di stagione ma nella seconda iniziava a svalvolare anche con Fonseca e quindi anche lì ragazzi valutiamolo Ilic assomiglia un po' a Vigliar bravissimo Davide infatti Ilic io da Ilic mi aspetto molto quest'anno per me è un giocatore che può fare bene al Verona quest'anno perché sapete magari sono quei giocatori che il primo anno hanno delle difficoltà che un po' come ha fatto Coso al Milan Sandro Tonali al Milan no? diversi giocatori magari il primo anno hanno delle difficoltà poi esplodono il secondo Ilic fisicamente sarebbe anche messo meglio è più aiutato dal fisico ci avrebbe un po' più di caratteristiche da quel punto di vista lì però anche lui hai visto in tante partite sparisce non lo vedi non è che ha fatto una gran stagione sto anno al Verona cioè io vi dico la verità se fossi stato l'allenatore del Verona tutto suonato in tante partite gli avrei fatto giocare Coso Veloso al posto suo vi dicono se uno faceva una valutazione tranchante meritocratica e onesta in tante partite avresti dovuto vedere veloso giocare al posto suo no scarso no non è scarso Ilic Ilic viene dal Manchester City Ilic ha delle buone potenzialità Ilic potenzialmente è uno che può fare la differenza però anche ci si aspetta di più perché il Verona ci ha investito mi pare che il Verona ha speso 8 milioni su Ilic cioè non è che sono 2 lire per una società così avete visto di Braff Jaden Braff quello che giocava all'Udinese l'ha preso il Borussia Dortmund l'ha preso il BVB esatto Cuisance Cuisance è una cosa diversa Cuisance è un giocatore che ha per me ottimi mezzi tecnici ha personalità forse anche troppa perché spesso in tante squadre che è andato a livello di carattere così ha rotto un po' i coglioni lui è uno per me che se tu lo inserisci in una squadra che ha già una base importante a livello di solidità anche di spogliatoio dove lui arriva e capisce che non è che non va nelle sabbie mobili ma va in una piazza già formata in una squadra già formata con un telaio di gioco formato dove lui può valorizzarsi e metterci il suo estro la sua qualità per me può fare molto bene può esplodere può esplodere per esempio non lo so se fosse ad uno step un po' più superiore in un Bologna mi viene in mente no? in un Bologna sempre con il 3-4-2-1 dove magari lo fai giocare trequartista anche perché no in un Verona magari anche se come piazza magari per lui non è proprio l'ideale però Quisans guardate che non è da buttare ecco non è uno che dici sì buttiamolo via no no è che è andato in una piazza nella quale la base dove lui doveva appoggiarsi era veramente molto tenue e anche lui ha finito con con il venire un po' coinvolto in sta mediocrità al ribasso capito? però anche lui non è che ha fatto partite disastrose cioè Quisans non è che l'hai visto al Venezia e puoi dire ha delle responsabilità sulle sconfitte ti ha fatto prendere dei gol no semplicemente faceva partite senza carne né pesce capito? che non era né carne né pesce perché gli mancava proprio la scintilla la responsabilizzazione gli mancava la base nella quale appoggiarsi e poi metterci il suo capito? Nani un assist con l'Empoli poi ragazzi Nani uno che ha 36 anni e che è stato svincolato dall'Orlando cosa c'era da aspettarsi? non è con quei giocatori che ti salvi ragazzi dai ecco io uno che avrei visto un altro che avrei portato a Venezia per esempio poi Marchiol dice di no perché l'Udinese non lo dava io un Wallace ma lo sarei portato a Venezia mettici un Marcantonio del genere a centro campo che ha sia un po' di doti di regia ma anche quando se ti capita che perdi la palla non c'hai a centro campo Busio non c'hai a centro campo Cuisan c'hai uno che pesa 200 kg e cambiano le cose metti fai per esempio immaginatevi un 3-4-2-1 del Venezia con i due a centro campo Wallace Cernigoi guardate che le squadre che lottano per salvarsi c'hanno bisogno anche di fisicità c'hanno bisogno di gente che quando perdi palla pressa c'hanno bisogno di gente che meni che mazzuli capito io mica l'avrei buttato via un bel 3-4-2-1 con Wallace e Cernigoi nei due in mezzo buttalo via poi magari l'Udinese non te lo dava c'ha ragione il Marchiola anche lì per carità però per farvi capire la tipologia di giocatore ma anche una Goumè per esempio a Goumè al Venezia mica si buttava via Venezia era anche leggera come squadra cioè fate il conto anche la Fiorentina è abbastanza leggera va detto come squadra specie da che è andato via perché noi noi a Firenze ragazzi di giocatori fisici abbiamo Igor non me ne vengono in mente già più altri ma Duncan è massiccio ma non è alto non è un Marcantonio capito non è neanche Milenkovic Milenkovic è abbastanza esile Cabral non abbiamo non abbiamo una squadra molto fisica noi ma ci può stare perché comunque la Fiorentina fa un altro tipo di gioco ecco Amrabat Amrabat Igor ma per il resto non abbiamo una squadra di Marcantoni una squadra di gente di colossi capito stile udinese ma quello ci può stare perché comunque la Fiorentina è una squadra che ha un'altra classifica che ha un'altra esigenza che deve mettersi in mostra soprattutto dal punto di vista tecnico del gioco è un altro paio di maniche però se tu fai se tu sei una neopromossa che deve fare un campionato comunque anche un po' di sofferenza c'hai bisogno anche di quella componente lì capito e il Venezia per me anche sotto quell'aspetto lì era un po' carente era un po' carente specie in mezzo al campo hai pagato anche quello l'udinese invece è una squadra molto fisica l'udinese è una squadra io a volte guardate che quando vedo specialmente l'ultima udinese quella di Ciofi guardate che quando quando vedevate giocare l'udinese di Ciofi in difesa cioè quando tu vedi gli attacchi avversari andare a sfidare o comunque a cercare di superare gente come Becao Marie Nuitink guardate che vedete veramente dei movimenti da grandi difensori io ho visto Becao l'altro giorno se non sbaglio era proprio contro la Salernitana ha fatto uno scherzo mi pare fosse Bonazzoli gli ha soffiato la palla gli ha fatto una specie di trivela gli ha buttato la palla addosso è finita in fallo laterale rimessa per l'udinese quella porca troia è una difesa che tu dici qua se mi vuoi far gol devi inventarti qualcosa di importante capito il Venezia Ciccaroni a Caldara per me era una coppia malassortita ciao ciao etrusco ciao etrusco ciao carissimo Ale ma Moise Ken alla Fiorentina ti gaserebbe no 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 perché non è un esterno non è un attaccante no eviterei volentieri ecco una cosa positiva che vi posso dire anche di Cioffio al Verona e che adesso a livello di mercato non so beh oddio guardate che anche Verona e Udinese hanno avuto degli ottimi rapporti di mercato negli ultimi tempi perché per esempio Doji Barak Silvestri quindi è un canale penso io che resti aperto anche dopo sta cosa qui di anche dopo sta cosa qui di Cioffi però visto che il Verona è proprio manchevole di un leader difensivo io al Verona per esempio vedrei molto bene Ferrari del Sassuolo tu ti porti a casa un Ferrari del Sassuolo e per me ti vai proprio a prendere un leader difensivo importante che ti può veramente se tu confermi sta squadra qui e ti prendi un leader difensivo tipo Ferrari del Sassuolo guarda che ti diverti perché il Verona da centrocampo in su è veramente una squadra valida però il Sassuolo magari Ferrari non te lo dà perché è un giocatore importante mi pare sia anche capitano adesso quindi per carità di Dio però visto che ti prendi Cioffi dall'Udinese magari riuscire a portarsi a casa anche Marie per esempio vai a rompere i coglioni sul riscatto di Pablo Marie mica si butta via eh mica si butta via visto che ti pigli Cioffi ti inserisci nel riscatto dell'Arsenal metti caso l'Udinese offre offre sei non lo so adesso non so se abbiano ma mi pare che non sia fissato definitivamente il riscatto se è fissato definitivamente tipo che l'Udinese sa già che con sei milioni se lo porta a casa ciao però se è un prestito secco il riscatto non è fissato ma io un po' di pressing me lo faccio su Marie se sono il Verona ti porti a casa Cioffi e Marie ti porti a casa le due armi principali dell'Udinese da gennaio in poi Ale per te Isai è un giocatore che può ancora dire qualcosa oppure non è più uno da Serie A no da Serie A lo è però ha fatto un'annata un po' deludente ha fatto un'annata mi aspettavo un po' di più da Isai va detto la Serie A sicuramente ma io credo rimarrà la Lazio ma il che vada fa la riserva ma il che vada fa la riserva il Venezia è una squadra leggera infatti dopo un minuto eri già sotto sì si Acra eri sempre quando guardavi il Venezia avevi sempre la sensazione che qualcosa di negativo potesse succedere avevi sempre la sensazione che per fare quello che facevano le altre squadre con molta più semplicità tu dovessi praticare dieci camice guardate sarà che io ero un po' condizionato dal fatto che ovviamente guardando la Fiorentina prima magari guardavo una partita della Fiorentina e poi giocava il Venezia o viceversa sembravano due universi diversi cioè quello che la Fiorentina magari faceva con un range di fatica dieci per cento il Venezia per farlo doveva metterci l'ottanta per cento della fatica capito quindi magari era un po' però visto che mi sono guardato anche altre partite anche altre squadre col Venezia ci avevi sempre la sensazione per esempio anche i pareggi che hai fatto all'andata contro il Torino e il Cagliari sì per carità hai pareggiato all'ultima nel secondo tempo e ricresciuto però che parti anali ragazzi che parti anali che parti anali io non ho mai visto una partita del Venezia nella quale ho potuto dire sta partita l'hai vinta in scioltezza sta partita l'hai vinta tranquillamente sta partita l'hai messa in sacoccia prima di scendere in campo mai una mai una e non vi sto parlando della giusta riverenza che puoi avere contro un avversario del fatto che nessuna partita è scritta di partenza no vi sto proprio parlando di una grande fatica a fare anche la cosa più semplice prenderesti i fagioli per un anno in prestituale ma dove alla Fiorentina dici fagioli a me piace però è un giocatore che ha delle caratteristiche che se noi ci riscattiamo Torreira fagioli non ci serve più però mi piace come giocatore anche a Sarri piace alla Lazio ci starebbe è forte fagioli fagioli è un buonissimo giocatore a noi a noi se resta Torreira non serve ma in ogni caso non è che lo prendi in prestito lo prendo se posso comprandolo capito Giovan Cabral può essere considerato come peggior acquisto stagionale no 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 non sono d'accordo non sono d'accordo guardate che guardate che Cabral quello della Lazio non so perché è stato anche magari mal recepito da Sarri quando è arrivato perché magari si aspettava qualcosa ma io quando l'ho visto giocare non ho visto tutta sta roba anche segnato contro il Verona no non lo peterei così non non andrei a petarlo così no no Daniele si parla di Douglas Lewis ma è un nome che gira dall'anno scorso non si sa no ragazzi se vi fidate di me per la Roma ce l'ho io il nome che impacchettato fatto e poi è un nome che vi faccio da tanti anni quindi se mi seguite dovreste dovreste conoscerlo se se avete seguito i miei cattomercati della Roma degli anni scorsi ragazzi è lì è un nome che non è che c'è tanto da vedere capito gli altri possono veramente accompagnare solo Svizzero non solo Svizzero non solo anche lui ma non solo quello sì ma non solo non 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 mi riferivo a lui anche ma non solo Ale conosci Salvatore Esposito della Spal sì l'ho anche messo nel mio plico di pontattinati per me in Serie A ci può stare in un Bologna ce lo vedrei bene sì sì Salvatore Esposito è un ottimo giocatore non è Gwendoza Prenderesti Gabriel Jesus all'Inter no anche per l'Inter c'è un altro nome anche per l'Inter c'è un altro nome Bove è un buon giocatore ma della Roma un altro che ho inserito che mi piace molto dei giovani è milanese milanese è un altro giovane che mi piace molto e che ho inserito nel mio plico di affari quello che ha giocato all'Alessander veramente milanese ci sta milanese è un giocatore che mi piace milanese allora intanto ringrazio Francesco Belloni grazie mille per la donazione ciao grande Ale Maxime Lopez ti piace secondo me è molto sottovalutato mi piace mi piace oggettivamente ha fatto una stagione molto importante però diciamo che io con i giocatori così leggerini purtroppo così piccoli c'ho sempre un po' di non dico che sono prevenuto però prima di spenderci sopra un po' ci penso perché comunque la serie A ragazzi come vi ho detto prima è anche un campionato cioè il calcio si sta infisichendo mettiamola così l'ideale è per esempio uno come Torreira anche Torreira non è grande è piccolo è basso però è tozzo cioè uno che se gli vai addosso fa anche male cioè uno che se c'è da mettere la gamba la mette è uno che comunque ha una sua fisicità importante Maxime Lopez anche per certe cose lo ricorda è uno che rincora il pallone è uno anche che ha un bel caratterino però ecco se pesasse un 10-15 kg in più e avesse 10-15 cm in più ti direi cazzo è da comprare al volo stando così riconosco che magari è anche un mio limite però preferisco sempre orientarmi su qualcos'altro ecco mettiamola così mettiamola così ma certo ma ragazzi ma Torreira è uno che che c'ha il dente che pindola contro l'Inter se lo stacca via continua a giocare cioè che cazzo stiamo parlando ma andrebbe riscattato anche solo per quella scena lì andrebbe riscattato anche solo per quella scena lì ragazzi Torreira Torreira io era da tempo che non vedevo un centrocampista così alla Fiorentina da tanto tempo Pedullà ha appena detto che Gollini non è un obiettivo della Fiorentina bene iniziamo uno dice uno dice una cosa uno dice quell'altro l'unica sicurezza sono i cattomercati ragazzi l'unica sicurezza sono i cattomercati sì a me a me di base piacciono diciamo a me di base piace una squadra come l'udinese cioè tu tu hai una squadra che cazzo stavo per bestemmiare perché mi sono fomentato è una squadra che tu ci scendi contro in campo e sai già che a livello fisico a livello di che cazzo uno di questi se ti viene addosso ti spacca il fisico capito cioè se ti viene addosso un wall da Sunnuit in Kummari e ti spacchi la gamba capito cioè già scendere in campo con gente così parti da un quede in più poi ci va anche la tecnica perché ovviamente non è che devi giocare a rugby l'ideale è avere gente fisica che c'ha anche il piede e c'ha la tecnica ok tu devi puntare al massimo secondo me capito devi puntare ad avere tutte queste due caratteristiche qua però qualche Marcantonio in campo un Amrabat che ti mazzola che recupera palloni che che distoglie magari altri giocatori dall'imperativo di difendere T-Sersi Granatieri a me gasano i giocatori anche fisica tipo De Paul capito giocatori De Paul De Paul De Paul De Paul De Paul cioè uno che ha il piede che ha la visione che ha la personalità ma è uno anche che c'ha un fisico che che ci sta che ci sta hai paura che Quame possa esplodere con l'Atalanta nello scambio Gollini e Quame sicuramente potrebbe fare bene e sarebbe come ho detto all'inizio live una grande occasione per lui poco ma sicuro lo schema anche lo esalterebbe perché lui giocando dietro una prima punta può fare molto bene anche il gioco di Gasperini potrebbe esaltarlo però onestamente se va in porto lo scambio e mi danno Gollini non sto poi tanto a lamentarmi se Quame all'Atalanta fa bene anche perché va pure detto che io i rimpianti posso averceli ed è giusto averli per un giocatore che io dico cazzo se avessimo avuto un po' più di pazienza secondo me questo alla Fiorentina faceva bene ma per Quame non posso dire questo perché io non l'avrei mai preso e soprattutto per lo schema in cui per lo schema che abbiamo adesso non ha di che stare nel 433 Quame a meno che non faccia un lavorone per adattarsi a fare l'esterno alto non hai di che metterlo quindi io è uno che cederei è uno che ringrazierei medaglina ciao poi fa bene fuori va bene ma non andrei tanto a rompermi i coglioni pensiamo visto che era un giocatore che già avrei messo all'uscio pensiamo a prendere giocatori forti per noi ciao Ale che ne pensi di Ederson della Salernitana secondo me è sopravvalutato vedo che se ne parla molto ma non capisco il perché lo penso come te ci vedono ho sentito addirittura parlare di una richiesta di 20 milioni per Ederson si aspettano che glieli do io campo a cavallo campo a cavallo che l'erba cresce se di secondo me onestamente non ci vedo niente di niente di speciale niente di particolare niente di niente di che niente di che niente di che ci vedo della Salernitana giocatori buoni ce ne sono c'è Bonazzoli è uno che merita assolutamente credito per me Bonazzoli è uno forte Mazzocchi è uno che ha dimostrato di valere il fazio rigenerato comunque degli ultimi tempi Gaza anche Diuri c'è un attaccante che magari non da Fiorentina ma per certe squadre può essere anche molto valido Boinen assolutamente Boinen è un ottimo un ottimo mediano Ederson sì per carità Ederson per squadre come Salernitana Spezia così è quasi un lusso però onestamente se mi vengono a dire a me vuoi Ederson alla Fiorentina per 15 18 20 milioni Avvocato Avvocato sono nervoso sono nervoso Verdi 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 è un po' come Saponara no? Ah aperta paretisi rinnovare Saponara eh non facciamo scherzi non facciamo scherzi eh che io l'anno prossimo Saponara lo voglio lo voglio in batteria ancora eh voglio ma è Saponara gas Saponara fomenta eh non facciamo scherzi rinnoviamo rinnoviamo Riccardo ecco Verdi è un po' come Saponara sono quei calciatori che hanno bisogno di ripire un ambiente stabile che gli dia delle garanzie Saponara per me a Firenze con italiano l'ha trovato lo sta trovando anche io gli voglio bene a Riccardo gli voglio molto bene a Riccardo Saponara si vede che è un bravo ragazzo col sorriso ci gasa gli vogliamo bene assolutamente assolutamente grazie Carlo sì terrazze ma Saponara deve rimanere Saponara è uno di noi Saponara ma io voglio bene a tanti giocatori della Fiorentina anche quando andavamo male cioè io sono affezionato per esempio a Saponara sono affezionato a Milenkovic a Biraghi non ne parliamo volevo bene a Vlaovic anzi a dire il vero posso essere onesto ma io a Vlaovic tutto sommato gli voglio bene ancora oggi cioè nel senso non è uno che che dico cazzo l'odio perché è andato la Juve non lo posso vedere un po' un po' mi è dispiaciuto perché secondo me un rinovino lo poteva anche fare per quello che la Fiorentina gli ha dato per il pubblico che l'ha sempre trifolato l'ha sempre o meglio non sempre perché in certi periodi sono stati anche un po' stronzetti però comunque bene o male era amato poi nell'ultimo periodo esultavamo tutti per me un rinovino lo poteva anche fare per carità però non è uno che sono capace di dire cazzo l'odio non lo posso vedere ma no alla fine lui per esempio ho voluto molto bene a lui Biraghi Milenkovic Martínez IV Torreira Saponara Saponara ci sono tanti giocatori comunque alla quale sono affezionato capito anche Terzic si Gaza anche Terzic ecco sì chiesa chiesa vi devo dire la verità non ho mai avuto molta empatia con chiesa chiesa non non mi non non ci ho mai legato con chiesa vi devo dire la verità sempre molto un atteggiamento molto quasi distaccato si vedeva che già comunque pensava non era empatico non ci ho mai legato con chiesa non mi ci sono mai affezionato vi dico la verità no chiesa chiesa no molto sempre self oriented poi le bizze che ebbe con Montella la scena nell'auto bus con barone no chiesa vi devo dire la verità non non ci sono mai stato particolarmente affezionato a chiesa devo essere onesto che a chiesa non sono mai stato particolarmente affezionato infatti quando è andato via se vi ricordate non è che me ne sbatté più di tanto il cazzo no scarso non è scarso per me è un giocatore o meglio o meglio non è non è tecnicamente pregiatissimo per carità di Dio però è un giocatore come Perisic sono giocatori duttili veloci determinato che nel calcio di oggi sono giocatori che ci stanno da Dio anzi è uno che se ci avessi un allenatore un po' più coraggioso un po' più sperimentalista di Allegri che te lo mette magari esterno a centrocampo come fece Pirlo contro la Dinamo Kiev l'anno scorso e ci punta quello lì ti diventa un Perisic ancora ancora più forte potenzialmente no scarso non è scarso forte è forte chiesa per carità niente da dire se utilizzato in certi ruoli perché va anche detto che noi noi per tre quarti delle volte l'abbiamo visto giocare attaccante che non è per me il suo abbiamo buttato via un anno secondo me facendo giocare chiesa attaccante e se vi ricordate poi quando noi il vero chiesa chiesa devastante ce lo siamo goduti le le ultime giornate che ha giocato con noi quando Iachini iniziò a farlo giocare esterno di centrocampo con il 3-5-2 e quindi in certi ruoli se tu lo incaselli bene se tu lo incastri no chiesa è forte però empaticamente umanamente non mi ha mai non mi ha mai tirato fuori amore passione sentimento empatia capito esatto Luca chiesa scarso ad attaccante se lo metti quinto il più forte il più forte il mondo non lo so però sicuramente è forte il Berna mi dispiace che fine ha fatto nonostante sia andato anche a me ecco Bernardeschi vi devo dire la verità io l'ho sempre recepito un po' invece come come uno a posto come comunque non è un cattivo ragazzo Bernardeschi si vede e poi certo uno mi parla delle dinamiche dell'addio di come se n'è andato e sicuramente anche lui poteva lasciarsi meglio per carità di Dio però va anche detto che nel calcio di oggi certe dinamiche sono anche normali purtroppo però anche a lui non è uno che gli ho voluto male o che gli ho augurato cose negative o il peggio perché anche lui è uno che tecnicamente devo dire che ho sempre stimato per me quando era da noi era veramente un giocatore gli ho visto tirare delle punizioni fare dei giochi di gambe fare dei gol che ho visto fare a pochi che ho visto fare il problema è che per me l'hanno rovinato perché è andato in una squadra con Allegri poi che là veramente ecco io ho visto che l'altro giorno Bernardeschi ha ringraziato Allegri si sono abbracciati e tutto per carità lato umano è giusto ci sta però se io dovevo fare una valutazione sportiva ed ero Bernardeschi altro che abbraccio andavo a fare in culo perché veramente a livello tecnico per me l'ha rovinato Allegri perché la veramente Bernardeschi era era un diamante capito che andava valorizzato scolpito rilucentato lui l'ha messo a fare il medianaccio in certe stagioni ha fatto il terzino la mezzala Bernardeschi è un altro giocatore che tu veramente se valuti la fine che gli ha fatto fare Allegri capisci che Allegri è meglio che se c'è una squadra di calcio guarda Bernardeschi ha fatto la sua peggior stagione con Sarri ma per carità ma infatti anche Sarri non è stato capace con lui di invertire la tendenza non stavo facendo un paragone tra allenatori anche Sarri per esempio Sarri lo volle mettere trequartista che era lo volle mettere quasi trequartista di rottura quando vi ricordate che era l'anno in cui dicevo cazzo Milan e Juve dovrebbero fare uno scambio la Juve pacchetta e Bernardeschi al Milan ecco Sarri voleva fargli fare una specie di trequartista di rottura perché poi guardate che anche Sarri non lo si ma Sarri passa per allenatore del bel gioco per allenatore offensivista guardate che è uno che con la difesa rompe anche i coglioni è uno che sull'equilibrio ci batte è uno che in genere non è uno che dice della fase difensiva me ne sbatto il cazzo tipo magari gli italiani e Zeman è uno che te la vuole fare anche fare ed è bestopallino che Bernardeschi poteva essere una specie di trequartista di rottura frangifluti così che era una cosa un po' cervellotica e neanche lui è stato capace secondo me di valorizzarlo a dovere doveva fare Sarri un po' come come ha fatto sto anno con Zaccagni alla Lazio Zaccagni veramente è stato bravo è forte anche Zaccagni però è stato bravo anche Sarri a smussarlo a metterlo al posto giusto a insegnargli i movimenti adesso Zaccagni è un gioiellino con Bernardeschi non gli riuscì però la fase di rovinata chiamiamola così di Bernardeschi è precedente è precedente coincide con l'addio con l'addio alla Fiorentina il primo anno alla Juve mi pare che non fece neanche malissimo poi però fu una discesa continua Pirlo è stato molto bravo con Chiesa quello sicuramente Pirlo con Chiesa è stato veramente molto 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 bravo non che si sia inventato particolari cose però qualcosina anche sì ed è stato bravo veramente Pirlo con Chiesa bisogna fargli solo gli applausi chi vedresti come stanno destro al Milan Bernardeschi proprio a fagiolo il Bern il Bern esatto poi come dice Giacomo anche troppa palestra troppo troppo ingrossamento fisico quelli sono giocatori di 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 tecnica capito non a tutti puoi mettere addosso Kili che poi gli vanno a cambiare il modo di stare in campo e anche lì è stato molto come pato al Milan come pato al Milan Bremer lo vedo bene all'Inter Bremer all'Inter ci sta l'appoggio Bremer all'Inter Bremer all'Inter Buonasera Buonasera bevo bevo anche un po' di acqua dalla pompa aspettatemi eccomi qua Allora 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 Il simbolo di Bernardeschi è la punizione nell'andata di Europa League contro il Borussia e quando poi ritorno siamo usciti Esatto Duccio Esatto Duccio Esatto Duccio Esatto In che squadra italiana collocheresti Sousa oggi come oggi? Io di Cudine Ma Sousa Sousa infatti se vi ricordate quando l'ho presa la Polonia come allenatore avevo dei dubbi perché mi sembra un po' un allenatore è che come si dice qua da me è che ha perso un boio cioè ha perso un po' un'occasione secondo me Sousa poi vi devo anche dire la verità io so però se c'ho un cuscino vado meglio perché mi sto piattendo il culo veramente vediamo qua se c'è un cuscino che già i coglioni sudati non c'è un cuscino un cazzo di niente devo portarmi i cuscini allora il cuscino il cuscino il cuscino vediamo qua se ci sto sullo sdraio dicevo Sousa ragazzi Sousa Sousa è un allenatore che io gli ho anche voluto bene per carità però quando ci fu quel gennaio lì quando ci fu il gennaio qua mi recepite qua mi recepite mi recepite? no è che non vedo io vabbè dai mi siedo qui dove ero e vaffanculo anche il cuscino mi appiattirò il culo cosa volete che vi dica comunque dicevo Sousa è un allenatore che io gli ho voluto molto bene da agosto settembre fino a gennaio di quel primo anno famoso che rischiamo anche di diventare campioni d'inverno però in quel famoso gennaio fatidico del mercato un po' mi scese perché comunque sì a te può rompere il cazzo che la società che stai lottando per un traguardo che non era preventivato magari ti fa un mercato un po' a ribasso per carità di Dio però ragazzi va anche detto che magari la Fiorentina non aveva quel tipo di potenzialità per andarti a fare magari un calciomercato da scudetto a gennaio che sono poi i discorsi che si sentono anche adesso e comunque in ogni caso tu puoi anche valutare negativamente quel calciomercato puoi anche magari dire cazzo potevamo lottare anche se io credo che comunque alla lunga saremmo scesi però vabbè intanto l'opportunità ce l'avevi e può anche girarti le palle il fatto che la società non ti abbia aiutato con un mercato a dovere di un certo modo però lui ebbe una reazione veramente molto scomposta e io dopo quel mercato lì ho sempre visto un allenatore che aveva buttato la spugna che aveva i mugugni che aveva i coglioni girati che c'era sempre mal mostoso e in quella discesa che facciamo secondo me ci ha messo molto anche lui perché invece se avevi un allenatore magari un po' più alla mano che diceva vabbè non ho avuto un calciomercato fomentante a gennaio però me ne frego voglio comunque bene a tutti voglio giocarmela fino alla fine non mi deprimo vado avanti ci metto del mio voglio avere la barra dritta per me avresti potuto fare un risultato migliore invece lui ebbe sto atteggiamento molto e che ha buttato tutto nelle amaro capito tutto un fiat tutto sulle amaro e da lì mi scese mi scese anche perché poi la piazza ne approfittò un po' si scagliarono tutti i controlli della valle ci furono le prime crepe ci furono le contestazioni e a me dispiace un po' dispiace un po' anche perché tanti risultati che poi facemmo erano risultati che non erano comunque giustificabili per la squadra che comunque avevamo quindi io vi devo dire la verità tra tutti gli allenatori che abbiamo avuto sotto i della valle resta Montella il mio preferito Sousa gli ho voluto bene ma fino ad una certa poi mi è sceso poi mi è sceso grazie grazie una cascata di pixel ah ho ricevuto una donazione da Iviola il canadese official grande Gabe iscrivetevi dal buon Gabe che ha il nuovo canale il canadese official seguitelo chi ti piacerebbe post italiano ma allora intanto intanto italiano io credo e spero resti perché abbiamo finito l'anno bene è un allenatore emergente non mi piace tutto ma l'allenatore perfetto non esiste e con i suoi limiti comunque la valutazione è positivissima me lo tengo anche per anche per un semplice discorso di continuità che dobbiamo garantire quindi italiano credo e spero resti per quest'anno quindi eventualmente andremo a valutare andremo a valutare un qualcosa per l'anno dopo per quando sarà io vi dico che allenatori validi in giro che vedrai bene alla Fiorentina ce ne sono tanti anche perché ovviamente noi non siamo una piazza voglio dire Conte alla Fiorentina vi fomenterebbe? Antonio Conte alla Fiorentina vi fomenterebbe? vorreste Antonio Conte alla Fiorentina? Antonio Conte alla Fiorentina così? sì o no? ecco dicevo noi non siamo una piazza nella quale puoi andare a prendere gli Antonio Conte i clop e via dicendo noi siamo una piazza io ve l'ho fatto l'identikit dell'allenatore della Fiorentina l'identikit della Fiorentina è un allenatore un allenatore dicevo giovane un allenatore emergente magari anche piacente in rampa di lancio che quindi viene da anni positivi e che tu vai a prendere e vai a valorizzare questo tipo di percorso no? gli italiano i Montella questa gente qua no? i Sousa per certi versi i Prandelli al tempo i Mancini anche se da noi fece diciamo raccolse l'eredità di Perin più che altro ecco quindi questa figura di allenatore qui giovane emergente in rampa di lancio anche diciamo fomentatore che capisca la piazza che la che la secondi che la segua che ci si metta dentro a livello di mood ma se io se io do uno sguardo a questo tipo di figura a questo tipo di cartina al tornasolo e ce ne possono essere diversi ragazzi Cioffi Zanetti Iuri Poi c'è un Sarri che non fa parte di studenti kit ma io a Firenze il buon Maurizio me lo prendo sempre volentieri Alvini 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 ragazzi ve lo metto assolutamente ce ne sono diversi no Tiago Motta non non mi dà delle vibes Spalletti sì stesso discorso di Sarri Dionisi ce ne sono sì volendo di allenatori interessanti ce ne sono di allenatori interessanti Zanetti cosa ha fatto io ti ripeto secondo me allenatori che hanno fatto miracoli in Serie A negli ultimi anni ce ne sono negli ultimi 5-6 anni ce ne sono tre italiano con lo Spezia il primo anno in Serie A Iuric a Verona il primo anno in Serie A Zanetti con il Venezia l'anno scorso in Serie B quindi non è che non ha fatto granché Zanetti è uno che ha portato in Serie A una squadra che non era da retrocessione per carità di Dio come si diceva all'inizio però portare in Serie A una squadra come il Venezia non è mai una cosa semplice no Tudor non mi come Tiago Motta allora Motta la narrazione se la merita perché effettivamente ha salvato una squadra in mezzo a tante difficoltà è sempre stato messo in discussione grogne col mercato cambio societario è venuto dopo italiano quindi Motta si merita assolutamente i complimenti gli elogi e via dicendo non lo vorrei alla Fiorentina non perché lo consideri scarso sopravvalutato via dicendo ma perché non mi dà un gran feeling ecco non è che mi fomenti capito non è un allenatore che mi fomenta se ho ane magari Tudor invece io lo considero proprio invece molto molto inflazionata la 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 narrativa su Tudor sapete con questo non sto dicendo che abbia fatto male o che sia scarso o che faccia cagare per carità di Dio però per me si è poco riflettuto su quello che lui ha trovato a Verona che è una piazza formata anche da da quello che aveva lasciato Juric da da quello che da quello che era stato il Verona degli ultimi due tre anni cioè per me Tudor è stato molto più gestore di quanto non si pensi è stato bravo è stato bravo può esserlo a portare risultati assolutamente sì ma Tudor a Verona per me non ha inventato niente Tudor per me a Verona non ha inventato niente infatti si parlava di Tudor al Bologna sarei stato curioso di vederlo se fosse stato capace di magari andare a ottenere dei risultati strabilianti con una qualificazione europea un ottavo settimo posto dubito Tudor per me è stato un po' inflazionato in quest'ultimo anno con questo non sto dicendo che ha fatto male o che ha fatto schifo sono stato il primo a dirvi adesso che va via di Francesco arriva a Tudor per me le cose si sistemano per carità di Dio però non ho in mano cose per dire cazzo questo ha delle idee di calcio questo ha fatto un disegno questo si è inventato una cosa o questo ci ha messo del suo che prima non c'era no per me lui è stato molto bravo e solamente bravo a ricollegare i fili con quello che era il Verona di Tudor a metterci magari del suo dal punto di vista offensivo per carità ma non ci ho visto questa invenzione questa stagione inventata dal niente capito grazie ancora Gabe anche Fonseca sì grazie assolutamente anche Fonseca Tudor ha fatto quello che ha fatto Juric valorizzando però la fase offensiva prendendo anche molti più gol è stato bravo a far segnare gli attaccanti sì per carità però se io vedo il Verona la fame del Verona la grinta del Verona il modo di interpretare la partita del Verona il modo di affrontare tutti gli avversari senza timori irreverenziali senza paura col coltello tra i denti il pressing l'intensità il livello fisico sono tutte cose che ha dato Juric tutte cose che ha portato e lasciato Juric anche lo schema stesso tutte cose di Juric Tudor sta a Juric come Inzaghi sta a Conte ma diciamo sì come rendimento è una cosa è una cosa che ci può stare sì infatti io su Cioffi io sono curioso io ripeto se a Verona va via Tudor e arriva a Cioffi ma io sono curioso di vederlo mi gasa di più sono anzi spero venga ufficializzato a breve perché sono veramente contento Diego hai citato un grande giocatore Gaetano del Napoli mi piace moltissimo e non da quest'anno da tanti anni ma guardate che il Napoli il Napoli ha un settore giovanile che spesso viene un po' sottovalutato preso sotto gamba però ragazzi anche Ciciretti mi pare che esca dal Ciciretti Luperto Gaetano anche Palmiero se non sbaglio quello del Cosenza ma forse lì mi sbaglio c'ha dei giovani Zanoli non è suo Zanoli l'hanno comprato però anche lui mi pare che un po' di giovanili del Napoli se le sia fatte Zanoli è uno che mi piace molto a me personalmente Zanoli è un altro è un altro come cancellieri che vista anche la giovane età magari se tu te lo porti a Firenze e lo dai a italiano è capace che l'italiano ne ricava un ottimo terzino destro se gli insegna un attimo a correre ad essere un po' più offensivo ad avere più coraggio a salire in avanti Zanoli a me piace molto Zanoli il Napoli ha dei buoni giovani anche Ciciretti per me era uno che con i piedi che aveva poteva fare tutt'altra carriera gli avrei dato anche fiducia in loco io a Ciciretti in certi anni come alternativa come riserva no Bellanova è del Milan i giovanili del Milan Bellanova non del Napoli Raul Raul Uova esce dalle giovanili del Milan ciao Ale salutami sono Sbronzo ciao Claudio Monciatti buona Sbronza Sbronzo di Riace Ale solo io avrei visto un Lirola l'ira di Dio con Italiano è solo un mio rimpianto no anche a me piaceva anche a me piaceva Lirola è che ormai si è rovinato un po' un po' con la piazza e l'ambiente ma se dovesse tornare non mi farebbe schifo per niente che poi anche lì scusate è stato è stato preso in antipatia dalla piazza perché voleva andare al Marsiglia e via dicendo ma se qui non lo facevano giocare ci sta anche che il giocatore voglia andare a giocare fuori avevamo un allenatore che non lo faceva giocare faceva giocare venuti e poi abbiamo preso Malquit a me Lirola piace io Lirola è che ripeto è improponibile per questioni ambientali di scelte già fatte e via dicendo però non era un brutto terzino era il nostro Teo Hernández vi ricordate meglio di Malquit sicuro Ale tu quale giornalista segui per quanto riguarda il mercato della Fiorentina ho anche fortuna di conoscerne diversi personalmente quindi seguo io piglio fiorentina.it come come collettore diciamo di cose poi c'è Firenze Viola dove c'è Giannattasio mi leggo sempre volentieri quel che scrive Bucchioni anche se a volte è un po' diciamo molto molto retroscenatico diciamo no quindi Fiorentina un po' tutti Fiorentina tutti per quel che riguarda il calciomercato ma guardate il calciomercato in generale non sono un grande fan di questo o quel giornalista perché poi anche vedete uno dice una cosa l'altro si smentisce c'è anche una rivalità di quartierino tra insider di uno che dice quello non prende ho ragione io qui e là si crea anche una specie di di cozzare che non mi piace molto uno che va in controtendenza all'altro e via dicendo quindi in genere più che altro mi baso sulle ufficialità e uno che ascolto volentieri è pedullà perché mi sta simpatico è uno che si è formato dal basso è uno che che leggo sempre volentieri con questo non sto dicendo che mi baso su quel che dice lui lo ascolto volentieri perché mi sta simpatico sebbene mi abbia bannato da twitter non ho capito perché però mi piace ancora ve la ricordate quella serata con Sarri ve la ricordate la serata con Sarri a casa di Sarri con pedullà storica quella cosa sembrava l'osteria vita nuova sembrava bellissima quella serata lì stupenda no ma lui non è che ha bannato solo me lui ha un rapporto con i social pedullà che è molto preventivo cioè lui magari se fai una battuta se lo taghi da qualche parte lui ha sempre sembra sempre che magari abbia paura che tu lo stia sfottendo o magari non vuole avere rompimenti di coglioni per carità ma lui su twitter è famoso perché banna tanta gente capito banna tanti su twitter lui non so perché c'è sta cosa è abbannato anche a me però non lo so quando gli ha detto adesso mi fuma ah sì quando sari gli ha detto mi sta offrendo una mia sigaretta esatto una serata stupenda gli ho fatto lo spaghettino gli ho dato il vino francese serata madre serata madre ah sari vuole ilic alla lazio ne abbiamo parlato prima ecco sari è un allenatore una cosa bella di sari è che lui gli dai un giocatore specie quelli tecnici gli dai un giocatore con i piedi buoni gli dai un giocatore valido ma udogia la juve ragazzi è fatta chiedo a voi perché ovviamente sono in live udogia la juve è fatta no perché sennò avrei diritto alla maglietta non me la prendo perché perché insomma avere la maglia della juve non è che sia proprio non è che sia sommare però avrei diritto alla maglietta di udogia udogia è forte il problema qui è l'inverso che con sari che con allegri gli faccio i miei auguri ma gli faccio i miei auguri ma con allegri è sempre sempre difficile ah mancano manca definire i bonus quindi udogia andrà probabilmente alla juve beh abbiamo iniziato l'estate con una pontatina già presa se succede e se Renato Sanchez va al Milan abbiamo già prese due cioè siamo a fine maggio e possiamo avere due pontatine prese ragazzi vi dico solo questo vi dico solo questo e non perché conosco Tizio Caio sono amico di Sempronio vado a cena con 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 Tizio io non conosco un cazzo di nessuno solo per intuizione e fare calcio Udo G Renato Sanchez poi anche sulla Fiorentina spero di prenderne il più possibile perché in primi sono giocatori di valore sono beni di valore e di gente che se ce la prendiamo ragazzi facciamo io vi avverto e ve lo spoilero se veramente la Fiorentina avesse capacità di costruire la squadra che vedrete lunedì noi ci abbiamo ci abbiamo una rosa potenzialmente da quarto posto sì Giannatasio lo conosco e me ne fregio quelli della Fiorentina vi ripeto li conosco personalmente molti ma altri non ho insider amici ecco il Marchiol ecco sì metteteci anche lui però non è che ho amici solo fare calcio dicevo guardate ragazzi lunedì preparatevi perché se la Fiorentina ha la capacità e vi dico già che comunque non è che avrà un budget starò nei parametri ma se se riescono a fare la squadra che vi faccio vedere lunedì se riusciamo a costruire ragazzi la squadra che vi faccio vedere lunedì abbiamo una Fiorentina in mano che è un gioiellino abbiamo una squadra che se che se italiano ci mette il suo e cresce ponderalmente anche lui per me possiamo anche lottare per il quarto posto guarda io di giocatore bene o male vi dico già ne comprerò 4-5 quelli nuovi che vedrete 4-5 circa basterebbe già anche prenderne 2-3 nei ruoli che andiamo a coprire si fa un salto di qualità importante ti piace la maglia della Juve del prossimo anno si rispetto alle ultime che ho visto una maglia elegante fatta bene si quella dell'Inter non mi piace per niente ragazzi se è quella uscita peccato perché l'Inter l'ultimo la maglia dell'Inter di sto anno era veramente bellissima quella nuova qui di uno spartano di un semplicistico brutto brutto se è quella che ho visto del Milan devo ancora vederla Doge quanto gasa il Flavione con il suo leggerissimo accento pugliese ma guarda Flavio è veramente un ragazzo d'oro io ho calcolato che sono andato a Firenze e ovviamente non conoscevo un cazzo e il secondo giorno sono stato quasi solo con lui mi ha detto guarda andiamo in giro siamo stati in giro mi ha detto sei ospite siamo andati al Viola Park siamo andati da Nicolò Pucci no veramente Flavio è un ragazzo d'oro veramente un ragazzo d'oro Flavio tanto pensavo avesse tipo 37 38 anni ha la mia età praticamente quindi Flavio è veramente un ragazzo d'oro ma guardate ma tutta l'esperienza che ho fatto a Firenze in quei giorni stupenda guardate ho preso ho preso il covid va bene ma sono stato contento perché anche anche molti tifosi voi fuori dallo stadio prima della partita mi ha fermato anche uno steward guardate veramente un calore un'umanità una sono rimasto veramente sorpreso anch'io in qualsiasi settore dello stadio gente che che mi ha detto vieni in curva dopo la partita in centro cioè veramente ragazzi guardate sono rimasto sono rimasto commozionato veramente dalla mia dalla mia trasferta fiorentina e Flavio fa parte anche di queste persone qui perché veramente è un ragazzo d'oro Flavio veramente poi mi ha mi ha detto una cosa eravamo in macchina e mi ha garantito una puntatina retorica perché mi stava parlando di un giocatore non mi ricordo chi e mi ha detto mangia i palazzi capito come per far capire che aveva voglia aveva fame aveva voglia di spaccare il mondo ha detto mangia i palazzi mi ha gasato perché mi sono immaginato uno che si mangia un palazzo di Firenze quindi è una puntatina retorica che utilizzerò mangia i palazzi capito per esempio se se semolina viene alla fiorentina mangia i palazzi capito ecco questo è assolutamente vero no adesso adesso sono sono negativo cari ma vi voglio bene anch'io è stata veramente tanta cosa poi sai magari uno si aspetta che non è che piaci a tutti come sicuramente sarà ci sarà anche qualcuno a cui starò sul cazzo però sai magari vai a Firenze becchi quello magari che vede i video e gli stai sulle palle quello che ti fa lo sfottò quello che sai che sei fuori dallo stadio sotto la curva ti viene a rompere il coglione 0 0 0 0 0 0 0 tutti quelli che ho visto mi hanno fermato foto abbracci fomenti guardate sono veramente rimasto allibito è da top club Molina non è roba per noi noi intanto andiamo noi intanto andiamo 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 a porre le basi poi vi ripeto sicuramente prendere tutti i giocatori che vedrete nel cattomercato sarà difficile me ne rendo conto non mi nascondo dietro un dito come diceva alborghetti però anche se ne prendessi solo uno o due poi attenzione come vi ho detto oggi pomeriggio non è che io mi fermo ai cattomercati cioè come tutti gli anni andiamo anche a fare i video reparto per reparto vi ricorderete per esempio che in tutti i cattomercati della Fiorentina nel cattomercato della Fiorentina dell'anno scorso vi misi Torreira come regista ad andarsi a prendere però poi feci anche un video con cinque nomi di registi che potevano andare bene per la Fiorentina quindi andremo anche a dare delle altre alternative vi misi per esempio Froiler qualcuno tornerà ancora buono tra l'altro quindi andremo anche a fare i video reparto per reparto io magari nel cattomercato vi metto Molina ma non è che poi mi fermo lì e dico solo Molina poi magari vi faccio il video nel quale vi do altri quattro nomi che possono andare bene se tu non vai su Molina quindi magari anche gente che costa meno gente magari che paghi un quinto però mi sta bene perché effettivamente poi c'hai quindi spero che siano anche cose magari gradite che possano che possono fare piacere anche che possono servire ma Udo G ce lo vedresti alla Juve o varrebbe imbrigliare ragazzi vi ripeto su Udo G Udo G alla Juve ve l'ho puntatinato vi ripeto Udo G alla Juve ve l'ho puntatinato io ve l'ho puntatinato quindi figuratevi se non mi piace Udo G alla Juve però con Allegri è sempre un rischio perché vedi qualsiasi giocatore gli dà in mano poi diventa diventa una scarpa o quasi e quindi io gli auguro di fare bene però non è semplice ma buon ragazzi io direi che ci possiamo salutare qui lasciate un bel mi piace siamo quasi a 400 e domani poi ci guardiamo la gara di Champions domenica vediamo e lunedì poi partiamo in tromba con i cattomercati e tutto quanto quindi caro saluto a domani e un bacione con i cattomercati